Di Victor Hugo, I Miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte seconda. Cosette. Libro primo. Waterloo. Capitolo primo. Ciò che si incontra venendo da Nivelle. L'anno scorso, 1861, in una bella mattina di maggio, un passante, colui che narra questa storia, veniva da Nivelle e si dirigeva verso la Hülpe. Andava a piedi. Seguiva tra due filari d'alberi un'ampia carreggiata selciata, ondulante su colline, che vengono una dopo l'altra, sollevano la strada e la lasciano ricadere, formando come onde enormi. Aveva superato l'Illua e Boiseigneur Isaac. Scorgeva, a Occidente, il campanile d'Ardesia di Brun-Lalue, che ha la forma di un vaso rovesciato. Si era lasciato alle spalle un bosco su un'altura e all'angolo di una strada traversa, accanto ad una specie di forca tarlata recante l'iscrizione Vecchia Barriera numero 4, un'osteria, che portava sulla facciata questo cartello. Ai 4.20. E Chabot, caffè privato. Mezzo quarto di Lega, al di là di quell'osteria, giunse in fondo ad un balloncello, dove c'era dell'acqua che scorre sotto un arco praticato nel terrapieno della strada. Il boschetto di alberi radi, ma verdissimi, che riempie il vallone da un lato della carreggiata, si sparpaglia sull'altro nei prati e se ne va con grazia e come in disordine verso Brun-Lalue. C'erano a destra, sul bordo della strada, una locanda, un carro a quattro ruote davanti alla porta, un gran fascio di pertiche da luppolo, un aratro, un mucchio di sterpi secchi accanto ad una siepe viva, della calce che fumava in un buco quadrato, una scala lungo una vecchia tettoia dai tramezzi di paglia. Una giovane sarchiava in un campo dove un gran manifesto giallo, probabilmente dello spettacolo di qualche festa, volava al vento. Sull'angolo della locanda, accanto ad uno stagno in cui navigava una flottiglia di anatre, un sentiero mal pavimentato si addentrava fra i rovi. Quel passante vi si incamminò. In capo a un centinaio di passi, dopo avere costeggiato un muro del XV secolo, sormontato da un pignone acuto a mattoni contrastati, si trovò al cospetto di una grande porta di pietra centinata, con imposta rettilinea, nel grave stile di Luigi XIV, con ai lati due medaglioni piani. Una facciata severa dominava quella parte. Un muro perpendicolare alla facciata veniva quasi a toccare la porta e la fiancheggiava con un brusco angolo retto. Sul prato, davanti alla porta, giacevano tre erpici attraverso i quali spuntavano alla rinfusa tutti i fiori di maggio. La porta era chiusa. Aveva due battenti decrepiti, ornati da un vecchio battacchio arrugginito. Il sole era splendido. I rami avevano quel dolce fremito di maggio, che sembrava venire dai nidi, più ancora che dal vento. Un coraggioso uccellino, probabilmente innamorato, vocalizzava perdutamente su un grande albero. Il passante si curvò ed esaminò nella pietra a sinistra, alla base dello stipite della porta, un largo scavo circolare simile all'alveolo di una sfera. In quel momento i battenti si aprirono e una contadina uscì. Vide il passante e si accorse di ciò che guardava. «È stata una palla francese a fare quel buco», disse. E aggiunse, «quello che vedete lì più in alto, nella porta vicino a un chiodo, è il foro di un grosso proiettile. Il proiettile non ha trapassato il legno». «Come si chiama questa località?», chiese il passante. «Fugomont», disse la contadina. Il passante si raddrizzò, fece qualche passo e andò a guardare al di là delle siepi. Scorse all'orizzonte, attraverso gli alberi, una specie di monticello, e su quel monticello qualcosa che da lontano somigliava ad un leone. Si trovava sul campo di battaglia di Waterloo. Capitolo II Fugomont Fugomont fu un luogo funebre. L'inizio dell'ostacolo, la prima resistenza che incontrò a Waterloo, quel grande taglialegna dell'Europa che si chiamava Napoleone, il primo nodo sotto il colpo d'ascia. Era un castello, non è più che una fattoria. Fugomont, per l'antiquario, è Fugomont. Questo maniero fu costruito da Hugo, sire di Somerelle, lo stesso che dotò la sesta cappellania dell'abbazia di Viglier. Il passante spinse la porta, aggirò sotto un portico una vecchia carrozza ed entrò nel cortile. La prima cosa che lo colpì in quel cortile fu una porta del XVI secolo che vi simula un'arcata, poiché è crollato tutto attorno ad essa. L'aspetto monumentale nasce sovente dalla rovina. Presso l'arcata si apre in un muro un'altra porta con cunei dell'epoca di Enrico IV, che lascia vedere gli alberi di un frutteto. Accanto a questa porta una buca per il letame, zappe e vanghe, qualche carretto, un vecchio pozzo con la sua lastra e il suo arganello di ferro, un puledro che salta, un tacchino che fa la ruota, una cappella sovrastata da un piccolo campanile, un pero in fiore a spalliera sul muro della cappella. Ecco il cortile la cui conquista fu un sogno di Napoleone. Quest'angolo di terra, se avesse potuto prenderlo, gli avrebbe forse dato il mondo. I polli vi disperdono col becco la polvere. Si sente un ringhio. È un grosso cane che mostra i denti e sostituisce gli inglesi. Gli inglesi qui sono stati ammirevoli. Le quattro compagnie delle guardie di Cook vi hanno tenuto testa per sette ore all'accanimento di un esercito. Hugumont, visto sulla mappa, in pianta generale, edifici e cinta compresi, presenta una superficie di rettangolo irregolare con un angolo guastato. È in quest'angolo che si trova la porta meridionale, protetta da quel muro che la fucila a bruciapelo. Hugumont ha due porte, la porta meridionale, quella del castello, e la porta settentrionale, quella della fattoria. Napoleone inviò contro Hugumont suo fratello Gerolamo. Le divisioni Guilleminot, Foix e Bachelut vi cozzarono contro. Quasi tutto il corpo di Ray vi fu impiegato e fallì. Le palle di Kellerman si spossarono su quell'eroico lembo di muro. Non fu di troppo la brigata Badouin per forzare Hugumont dal nord, e la brigata Soie non poté che intaccarla a sud, senza prenderla. Gli edifici della fattoria costeggiano il cortile a sud. Un brandello della porta nord, fracassata dai francesi, pende dalla parete. Sono quattro tavole, inchiodate su due traversine, e vi si vedono gli sfregi dell'attacco. La porta settentrionale, sfondata dai francesi, e alla quale è stato aggiunto un pezzo per sostituire il pannello appeso al muro, si schiude in fondo alla corte. È tagliata a forma di quadrato in un muro di pietra in basso, di mattoni in alto, che chiude il cortile a nord. È una semplice porta carraia, come se ne trovano in tutte le cascine, due ampi battenti fatti di rustiche tavole, al di là i prati. Questo ingresso fu conteso furiosamente. Per molto tempo si poterano vedere sul montante della porta ogni sorta di impronte di mani insanguinate. È qui che fu ucciso Baudouin. La tempesta della battaglia è tuttora in questo cortile. L'orrore è visibile. Lo sconvolgimento della mischia vi si è pietrificato. Questo vive, questo muore. Era ieri. I muri agonizzano, le pietre cadono, le brecce gridano, i fori sono piaghe, gli alberi contorti e tremanti. Sembrano sforzarsi di fuggire. Questo cortile nel 1815 era più fortificato di oggi. Edifici che poi sono stati abbattuti vi formavano salienti, angoli e gomiti. Gli inglesi vi si erano barricati, i francesi vi penetrarono, ma non riuscirono a mantenervisi. Accanto alla cappella, un'ala del castello, l'unico avanzo che resti del maniero di Hugumot, si staglia crollata, si potrebbe dire sventrata. Il castello servì da torione, la cappella servì da ridotta. Ci si sterminò qui. I francesi, presi di mira da ogni parte, da dietro le pareti, dall'alto dei granai, dal fondo delle cantine, da tutte le finestre, da tutti gli spiragli, da tutte le fessure delle pietre, portarono fascine e diedero fuoco ai muri e agli uomini. La mitraglia ebbe in risposta l'incendio. Si intravedono nell'ala rovinata, attraverso le finestre munite di sbarre di ferro, le camere smantellate di un appartamento in mattoni. Le guardie inglesi erano imboscate in queste camere. La spirale della scala, frantumata dal pian terreno al tetto, appare come l'interno di una conchiglia spezzata. La scala ha due piani. Gli inglesi, assediati sulla scala e ammassati sui gradini superiori, avevano tagliato i gradini inferiori. Sono grandi lastre di pietra azzurrina che formano un mucchio tra le ortiche. Una decina di gradini sono ancora inseriti nel muro. Sul primo è intagliata l'immagine di un tridente. Questi gradini, inaccessibili, sono solidi nei loro alveoli. Tutto il resto somiglia ad una mascella sdentata. Ci sono due vecchi alberi. Uno è morto, l'altro è ferito alla base e rinverdisce in aprile. Dal 1815 si è messo a crescere attraverso la scala. Ci si è massacrati nella cappella. L'interno, ridivenuto calmo, è strano. Non vi si è più celebrata la messa dopo il carnaio. Ma l'altare è rimasto un altare di legno ordinario, addossato ad un fondo di pietra grezza. Quattro pareti intonacate a calce, una porta di fronte all'altare, due finestrelle centinate. Sopra alla porta un gran crocefisso di legno. Sopra il crocefisso una feritoia quadrata, chiusa da una balla di fieno, in un angolo a terra. Un vecchio telaio vetrato tutto rotto. Ecco la cappella. Presso l'altare è fissata una statua in legno di Sant'Anna del XV secolo. La testa del bambin Gesù è stata portata via da un proiettile. I francesi, padroni per il momento della cappella, poi sloggiati, la incendiarono. Le fiamme riempirono la stamberga, che diventò una fornace. La porta è bruciata, il pavimento è bruciato, il Cristo in legno non è bruciato. Il fuoco gli ha roso i piedi, di cui non si vedono più che i moncherini anneriti. Poi si è fermato. Miracolo, a detta dei paesani. Il bambin Gesù, decapitato, non è stato fortunato come il Cristo. Le pareti sono coperte di scritte. Accanto ai piedi del Cristo si legge questo nome, Rankine. Poi questi altri, con De de Rio Mayor, Marchessi Marchesa de Almagra, Habana. Vi sono nomi francesi con punti esclamativi, segno di collera. Il muro è stato sbiancato nel 1849. Le nazioni vi si insultavano. Fu sulla porta di questa cappella che venne raccolto un cadavere con un'ascia in mano. Quel cadavere era il sottotenente Legro. Si esce dalla cappella e a sinistra si vede un pozzo. Ce ne sono due in questo cortile. Si chiede perché questo è privo di secchio e di puleggia. Perché non vi si attinge più acqua? Perché non vi si attinge più acqua? Perché è pieno di scheletri. L'ultimo che abbia tinto acqua da questo pozzo si chiamava Guillaume Van Kislom. Era un contadino che abitava a Dugumont e faceva il giardiniere. Il 18 giugno 1815 la sua famiglia prese la fuga e andò a nascondersi nei boschi. La foresta, attorno all'abbazia di Villiers, diede riparo per parecchi giorni e parecchie notti a tutte quelle infelici popolazioni disperse. Ancora oggi alcune tracce riconoscibili come vecchi tronchi d'albero bruciati segnano l'ubicazione di quei poveri bivacchi tremanti in fondo alle macchie. Guillaume Van Kilsom rimase a Hugumont per custodire il castello e si rannicchiò in una cantina. Gli inglesi lo scoprirono. Lo strapparono dal suo nascondiglio e, appiattonate, i combattenti si fecero servire da quell'uomo spaventato. Avevano sete. Quel Guillaume portava loro da bere. È da questo pozzo che attingeva l'acqua. Molti bevero qui il loro ultimo sorso. Questo pozzo, cui bevettero tanti morti, doveva morire anch'esso. Dopo l'azione ci fu un'urgenza, seppellire i cadaveri. La morte ha una sua maniera di assillare la vittoria e fa seguire alla gloria la peste. Il tifo è un corollario del trionfo. Quel pozzo era profondo. Ne fecero un sepolcro. Vi gettarono 300 morti. Forse con troppa sollecitudine erano tutti morti. La leggenda dice di no. Sembra che la notte che seguì il seppellimento si sentissero uscire dal pozzo deboli voci che chiamavano. Quel pozzo è isolato al centro della corte. Tre muri per metà in pietra e per metà in mattoni, piegati come le pareti di un paravento e simulanti una torretta quadrata, lo circondano da tre lati. Il quarto lato è aperto. È di qui che si attingeva l'acqua. Il muro di fondo ha una specie di occhio di bue informe, forse il foro di un ovice. Questa torretta aveva un soffitto di cui non restano che le travi. L'armatura di sostegno del muro di destra disegna una croce. Ci si china a guardare e l'occhio si perde in un profondo cilindro di mattoni, colmo di tenebre che si infittiscono. Tutto attorno al pozzo le basi dei muri scompaiono fra le ortiche. Questo pozzo non ha per davanzale l'ampia lastra azzurra che serve da grembiale a tutti i pozzi del Belgio. La lastra azzurra è sostituita da una traversa su cui si appoggiano cinque o sei deformi tronchi di legno nodosi e anchilosati che somigliano a grosse ossa. Non c'è più secchio né catena né puleggia, ma c'è ancora la conca di pietra che serviva da sfioratore. L'acqua piovana vi si accumula e di tanto in tanto un uccello delle vicine foreste viene a bere e vola via. Un edificio in questa rovina, l'edificio della fattoria, è ancora abitato. La porta di questo casolare dà sulla corte. Accanto a una bella placca di serratura gotica c'è su questa porta una maniglia di ferro a trifogli montata di traverso. Nel momento in cui il tenente annoveriano Vilda impugnava quella maniglia per rifugiarsi nella fattoria, uno zappatore francese gli troncò la mano con un colpo d'ascia. La famiglia che occupa la casa ha per nonno il vecchio giardiniere Vankis Lom morto da tempo. Una donna dai capelli grigi ci dice io ero qui, avevo tre anni, mia sorella più grande aveva paura e piangeva, ci hanno portate nel bosco. Io ero in braccio a mia madre, incollavamo l'orecchio a terra per ascoltare, io imitavo il cannone, facevo boom boom. Una porta della corte a sinistra come abbiamo detto dà sul frutteto. Il frutteto è terribile, è diviso in tre parti, si potrebbe quasi dire in tre atti. La prima parte è un giardino, la seconda il frutteto, la terza un bosco. Queste tre parti hanno una cinta comune, dal lato dell'entrata gli edifici del castello e della fattoria, a sinistra una siepe, a destra un muro, in fondo un muro. Il muro di destra è di mattoni, il muro di fondo è di pietra. Si entra dapprima nel giardino. È a un livello inferiore, piantato a ribes, ingombro di vegetazione selvatica, chiuso da un terrazzamento monumentale in pietra da taglio, con balaustre a doppia entasi. Era un giardino signorile in quel primo stile francese che ha preceduto le notre. Oggi rovine e rovi. I pilastri sono sormontati da globi che sembrano palle di cannone in pietra. Si contano ancora 43 balaustre in piedi, le altre sono coricate nell'erba. Quasi tutte recano scalfiture di moschetteria. Una balaustra spezzata è posata sul parapetto come una gamba rotta. È in questo giardino più basso del frutteto che sei volteggiatori del primo fanteria leggera, che erano penetrati qui e non riuscivano più a uscirne, presi e braccati come orsi nella loro fossa, accettarono il combattimento con due compagnie annoveriane, una delle quali armata di carabine. Gli annoveriani costeggiavano le balaustre e sparavano dall'alto. Quei volteggiatori, rispondendo dal basso, sei contro duecento, intrepidi, senz'altro riparo che i ribes, ci misero un quarto d'ora a morire. Si sale qualche gradino e dal giardino si passa nel frutteto propriamente detto. Qui, in queste poche tese quadrate, millecinquecento uomini caddero in meno di un'ora. Il muro sembra pronto a ricominciare il combattimento. Le trentotto feritoie praticate dagli inglesi ad altezze irregolari ci sono ancora. Davanti alla sedicesima ci sono due tombe inglesi in granito. Non ci sono feritoie che sul muro sud. L'attacco principale veniva di là. Questo muro è nascosto dall'esterno da una grande siepe viva. I francesi arrivarono, credendo di non dover superare che la siepe. L'abbarcarono e trovarono il muro, ostacolo e imboscata. Le guardie inglesi dietro le trentotto feritoie che sparavano contemporaneamente. Una tempesta di mitraglia e di pallottole. E la brigata Soi vissì in Franse. Waterloo cominciò così. Il frutteto comunque fu preso. Non c'erano scale. I francesi si arrampicarono con le unghie. Ci si batte corpo a corpo sotto gli alberi. Tutta quest'erba è stata intrisa di sangue. Un battaglione del Nassau, settecento uomini, fu annientato qui. All'esterno il muro contro il quale furono puntate le due batterie di Kellerman è roso dalla mitraglia. Questo frutteto è sensibile come qualunque altro al mese di maggio. Ha i suoi bottoni d'oro e le sue pratoline. L'erba è alta. Cavalli aggiogati all'aratro vi passano. Corde di crine su cui si asciuga della biancheria attraversano gli intervalli degli alberi e fanno abbassare la testa ai passanti. Si cammina su questa assodaglia e il piede affonda nelle tane di talpa. In mezzo all'erba si nota un tronco sradicato, disteso, verdeggiante. Il maggiore Blackman vi si addossò per spirare. Sotto un grande albero vicino è caduto il generale tedesco Dupla, di una famiglia francese emigrata alla revoca dell'editto di Nantes. Accanto si china un vecchio melo malato, medicato con una fasciatura di paglia e argilla. Quasi tutti i meli sono cadenti di vecchiaia. Non ce n'è uno che non abbia la sua pallottola o la sua scheggia. Gli scheletri di alberi morti abbondano in questo frutteto. I corvi volano tra i rami. Sullo sfondo c'è un bosco pieno di violette. Baudoin ucciso, Foy ferito. L'incendio, il massacro, il carnaio. Un ruscello fatto di sangue inglese, di sangue tedesco e di sangue francese, furiosamente mescolati. Un pozzo colmo di cadaveri. Il reggimento del Nassau e il reggimento del Brunswick distrutti. Dupla ucciso, Blackman ucciso. Le guardie inglesi mutilate. Venti battaglioni francesi, sui quaranta del corpo di rail, decimati. Tremila uomini, in questa sola cascina di hougoumont, sciabolati, fatti a pezzi, sgozzati, fucilati, bruciati. E tutto questo perché oggi un contadino dica ad un viaggiatore, «Signore, datemi tre franchi. Se volete, vi spiegherò come è andata a Waterloo». Capitolo terzo. Il 18 giugno 1815. Torniamo indietro. È uno dei diritti del narratore e ricollochiamoci nell'anno 1815 e anche un poco prima dell'epoca in cui inizia l'azione raccontata nella prima parte di questo libro. Se non avesse piovuto nella notte dal 17 al 18 giugno 1815, l'avvenire dell'Europa sarebbe cambiato. Qualche goccia d'acqua in più o in meno ha fatto cadere Napoleone. Affinché Waterloo fosse la fine di Austerlitz, la provvidenza non ha avuto bisogno che di un po' di pioggia e una nuvola che attraversò il cielo in contrasto con la stagione è bastata a far crollare un mondo. La battaglia di Waterloo, e questo diede a Blücher il tempo di arrivare, non poté iniziare che alle 11 e mezza. Perché? Perché il terreno era bagnato. Si dovette aspettare che si rassodasse un poco affinché l'artiglieria potesse manovrare. Napoleone era ufficiale d'artiglieria e ne scontava le conseguenze. Tutti i suoi piani di battaglia sono fatti per il proiettile. Far convergere l'artiglieria su un dato punto, era questa la chiave delle sue vittorie. Trattava la strategia del generale nemico come una cittadella e la batteva in breccia. Sommergeva il punto debole con la mitraglia, annodava e snodava le battaglie con il cannone. C'era del tiro nel suo genio. Sfondare i quadrati, polverizzare i reggimenti, rompere le linee, frantumare e disperdere le masse. Tutto per lui consisteva in questo, colpire, colpire, colpire senza posa e affidare questo compito alla palla di cannone. Metodo temibile e che, unito al genio, ha reso invincibile per quindici anni quel fosco atleta del pugilato della guerra. Il 18 giugno 1815 egli contava tanto più sull'artiglieria in quanto aveva il numero dalla sua parte. Wellington non aveva che 159 bocche da fuoco, Napoleone ne aveva 240. Supponete che il terreno fosse asciutto e l'artiglieria potesse muoversi, l'azione sarebbe iniziata alle sei del mattino. La battaglia sarebbe stata vinta e conclusa alle due, tre ore prima dell'intervento prussiano. Quanta parte di colpa aspetta Napoleone nella perdita di questa battaglia? È imputabile al pilota il naufragio. Il declino fisico di Napoleone, evidente all'epoca, era complicato da un certo calo interiore. I vent'anni di guerra avevano logorato la lama come il fodero, l'anima come il corpo. Il veterano si faceva spiacevolmente sentire nel capitano, in una parola, quel genio, come molti autorevoli storici hanno creduto. Si stava eclissando, entrava in frenesia per nascondere a se stesso il proprio indebolimento, cominciava ad oscillare per effetto di un soffio d'avventura, diventava cosa grave in un generale incosciente del pericolo. In quella classe di grandi uomini materiali, che sono stati chiamati i giganti dell'azione, c'è un'età per la miopia del genio. La vecchiaia non fa presa sui geni dell'ideale. Per i Dante e i Michelangelo invecchiare è crescere, per gli Annibale e i Bonaparte è forse decrescere. Napoleone aveva perso il senso diretto della vittoria, era al punto di non più riconoscere lo scoglio, di non più indovinare la trappola, di non più discernere l'orlo franante dell'abisso. Mancava del fiuto delle catastrofi. Lui, che un tempo conosceva tutte le vie del trionfo e che dall'alto del suo carro di lampi le indicava con mano sovrana, aveva ora quel sinistro stordimento di condurre al precipizio il suo tumultuoso traino di legioni. Era colto, a 46 anni, da una follia suprema. Quel cocchiere titanico, quel destino, non era più che un gigantesco giocatore d'azzardo. Non lo crediamo. Il suo piano di battaglia era, per riconoscimento universale, un capolavoro. Puntare dritto al centro della linea alleata. Fare un buco nel nemico, tagliarlo in due, spingere la metà britannica su Hall e la metà prussiana su Tongray. Fare di Wellington e di Blücher due tronconi. Prendere Mont-Saint-Jean, occupare Bruxelles, gettare il tedesco nel Reno e l'inglese in mare. Tutto questo, per Napoleone, era in quella battaglia. In seguito si sarebbe visto. È inutile dire che qui non pretendiamo di fare la storia di Waterloo. Una delle scene generatrici del dramma che stiamo raccontando si ricollega a questa battaglia. Ma questa storia non è il nostro argomento. Questa storia, peraltro, è stata scritta, è scritta magistralmente, da Napoleone sotto un punto di vista, sotto un altro, da Chagat. Quanto a noi, lasciamo i due storici alle prese. Non siamo che un testimone a distanza, un passante nella piana, un ricercatore chino su quella terra impastata di carne umana, che prende forse le apparenze per realtà. Non abbiamo il diritto di tener testa, nel nome della scienza, a un insieme di fatti in cui v'è senza dubbio del miraggio. Non abbiamo né la pratica militare né la competenza strategica che autorizzano un sistema. Secondo noi, una concatenazione di casualità domina a Waterloo i due condottieri. E quando si tratta del destino, questo misterioso imputato, noi giudichiamo come il popolo, giudice spontaneo. Capitolo IV. A. Chi volesse farsi un'idea chiara della battaglia di Waterloo non ha che da tracciare sul terreno col pensiero una A maiuscola. La gamba sinistra della A è la strada di Nivelle, la gamba destra è la strada di Genap, la corda della A è la strada incassata da Horan a Brun-le-Lieu. Il vertice della A è Mont-Saint-Jean e qui c'è Wellington. La punta sinistra inferiore è Hugo Mont e qui c'è Rayl con Gerolamo Bonaparte. La punta destra inferiore è la Belle Alliance e qui c'è Napoleone. Un poco più in basso del punto in cui la corda della A incontra e taglia la gamba destra c'è la Hessant. In mezzo a questa corda c'è il punto preciso in cui si è detta la parola decisiva della battaglia. È qui che è stato posto il leone, simbolo involontario del supremo eroismo della guardia imperiale. Il triangolo compreso tra il vertice della A entro le due gambe e la corda è l'altopiano di Mont-Saint-Jean. La contesa per questo altopiano fu tutta la battaglia. Le ali dei due eserciti si stendono a destra e a sinistra delle due strade di Genap e di Nivelle. Darlon fronteggia Picton, Rayl fronteggia Hill. Dietro il vertice della A, dietro l'altopiano di Mont-Saint-Jean, c'è la foresta di Soigne. Quanto alla piana vera e propria si pensi ad un vasto terreno ondulato. Ogni piega domina la piega successiva e tutte le ondulazioni risalgono verso Mont-Saint-Jean e sfociano nella foresta. Due eserciti nemici su un campo di battaglia sono come due lottatori. Si agguantano per la vita. Uno cerca di far scivolare l'altro. Ci si aggrappa a tutto. Un cespuglio è un punto d'appoggio. L'angolo di un muro è un sostegno. In mancanza di una bicocca a cui addossarsi, un reggimento arretra, un'infossatura della piana, un movimento del terreno, un provvidenziale sentiero di traverso, un bosco, un dirupo, possono arrestare il tallone di quel colosso che si chiama un esercito e impedirgli di retrocedere. Chi esce dal campo è battuto. Da qui, per il capo responsabile, la necessità di esaminare il minimo ciuffo d'alberi e di prendere in considerazione il più piccolo rilievo. I due generali avevano attentamente studiato la piana di Mont-Saint-Jean, detta oggi piana di Waterloo. Fin dall'anno precedente, Wellington, con previdente Sagacia, l'aveva presa in esame come adatta ad una grande battaglia. Su quel terreno e per quel duello, il 18 giugno Wellington stava dal lato migliore, Napoleone dal peggiore, l'esercito inglese era in alto, il francese in basso. Abbozzare qui la figura di Napoleone a cavallo, il cannocchiale in pugno, sull'altura di Rossum, all'alba del 18 giugno 1815, è quasi di troppo. Prima che lo si raffiguri, tutti l'hanno già visto. Quel profilo calmo sotto il piccolo cappello della scuola di Brienne, quell'uniforme verde, i risvolti bianchi che nascondono la placca, la finanziera che nasconde le spalline, l'angolo del cordone rosso sotto il panciotto, i pantaloni di cuoio, il cavallo bianco con la sua gualdrappa di velluto porpora, recante agli angoli, le enne coronate e le aquile, gli stivali alla scudiera su calze di seta, gli speroni d'argento, la spada di marengo. Tutta questa figura dell'ultimo Cesare spicca nelle immaginazioni, acclamata dagli uni, severamente considerata dagli altri. Quella figura è stata per lungo tempo tutta luce, per effetto di un certo alone leggendario che emana dalla maggior parte degli eroi e che vela sempre più o meno a lungo la verità. Ma oggi la storia e il giorno fanno luce. Questa luce, la storia, è spietata. A questo di strano e di divino, che per quanto sia luce e proprio in quanto è luce, sovente proietta ombra, là dove si vedevano raggi. Dello stesso uomo essa fa due fantasmi diversi e uno attacca l'altro e ne fa giustizia e le tenebre del despota lottano con lo splendore del condottiero. Di qui una misura più vera nell'apprezzamento definitivo dei popoli. Babilonia violata sminuisce Alessandro. Roma incatenata sminuisce Cesare. Gerusalemme uccisa sminuisce Tito. La tirannia segue il tiranno. È una sventura per un uomo lasciare dietro di sé la notte che ha la sua forma. Capitolo V. Il Quid Obscurum delle battaglie Tutti conoscono la prima fase di quella battaglia. Inizio confuso, incerto, esitante, minaccioso per entrambi gli eserciti, ma per l'inglese più ancora che per il francese. Aveva piovuto tutta la notte. Il terreno era fradicio. L'acqua si era accumulata qua e là, nelle cavità della pianura come in grandi vasche. In alcuni punti gli equipaggi dei treni d'artiglieria l'avevano fino all'assale. I sottopancia dei cavalli da tiro sgocciolavano fango liquido. Se i grani e le segale schiacciati da quella frotta di cariaggi in marcia non avessero colmato i solchi e fatto strame sotto le ruote, ogni movimento, in particolare nei valloni dalla parte di Papelot, sarebbe stato impossibile. La faccenda ebbe inizio tardi. Napoleone, l'abbiamo spiegato, aveva l'abitudine di tenere tutta l'artiglieria in mano come una pistola, mirando ora a questo punto, ora a quell'altro della battaglia, e aveva voluto aspettare che le batterie montate potessero correre e galoppare liberamente. Per questo bisognava che apparisse il sole ad asciugare il terreno. Ma il sole non comparve. Non era più l'appuntamento di Osterlitz. Quando la prima cannonata fu sparata, il generale inglese Colville guardò l'orologio e constatò che erano le 11 e 35 minuti. L'azione fu ingaggiata con furia, con più furia forse di quanta ne desiderasse Napoleone, dall'ala sinistra francese su Hougoumont. Nel contempo, Napoleone attaccò il centro, precipitando la brigata Quiot sulla Resson, e Ney spinse l'ala destra francese contro l'ala sinistra inglese, che si appoggiava a Papelot. L'attacco su Hougoumont aveva anche dissimulazione. Atterare qui Wellington, sbilanciarlo sulla sinistra, questo era il piano. Questo piano sarebbe riuscito se le quattro compagnie delle guardie inglesi e i valorosi belgi della divisione per Ponchet non avessero saldamente tenuto la posizione e Wellington, invece di ammassarvisi, poteva limitarsi a mandarvi per tutto rinforzo altre quattro compagnie di guardie e un battaglione del Brunswick. L'attacco dell'ala destra francese a Papelot era a fondo. Travolgere la sinistra inglese, tagliare la strada di Bruxelles, sbarrare il passo agli eventuali prussiani, forzare Mont-Saint-Jean, respingere Wellington su Hougoumont, da lì su Brun-la-Leu, da lì su Halle, niente di più netto. A parte qualche incidente, questo attacco riuscì. Papelot fu presa, la Haysant fu conquistata. Un particolare da notare. C'erano nella fanteria inglese, particolarmente nella brigata di Kemp, molte reclute. Quei giovani soldati, davanti ai nostri temibili fanti, furono valorosi. La loro inesperienza si trasse intrepidamente d'impaccio. Svolsero soprattutto un eccellente compito di truppe leggere. Il fant leggero, un po' abbandonato a se stesso, diventa per così dire il proprio generale. Quelle reclute dimostrarono qualcosa dell'inventiva e della furia francesi. Quella fanteria novizia ebbe dell'estro. La cosa spiacque a Wellington. Dopo la presa del Haysant, la battaglia vacillò. C'è in quella giornata, da mezzogiorno alle quattro, un intervallo oscuro. Il cuore di quella battaglia è quasi indistinto e partecipa dell'ombra della mischia. Vi cala il crepuscolo. Si scorgono vaste fluttuazioni in quella nebbia. Un miraggio vertiginoso, l'armamentario da guerra di allora quasi sconosciuto a oggi. I colbacchi a fiamma, le giberne ondeggianti, le buffetterie incrociate, le giberne da granata, i dolman degli Ussari, gli stivali rossi a mille pieghe, i pesanti sciacò inghirlandati di trecce. La fanteria pressoché nera del Brunswick, mista alla fanteria scarlatta d'Inghilterra. I soldati inglesi, che portavano al giro di manica in luogo di spalline e grossi cuscinetti bianchi circolari. I cavalleggeri annoveriani, con loro casco di cuoio oblungo, con bande di rame e criniere rosse. Gli scozzesi, dalle ginocchia nude e dai plaid quadrettati. Le grandi ghette bianche dei nostri granatieri. Quadri, non linee strategiche, ciò che serve a Salvator Rosa, non ciò che serve a Griboval. Una certa quantità di tempesta si mescola sempre ad una battaglia. Quid obscurum, quid divinum. Ogni storico traccia un po' i lineamenti che gli piacciono in questa confusione. Qualunque sia la combinazione dei generali, lo scontro di masse armate, a riflussi incalcolabili. Nell'azione, i due piani dei due capi entrano uno nell'altro e sono deformati l'uno dall'altro. La linea di battaglia fluttua e serpeggia come un filo. Le tracce di sangue scorrono illogicamente. I fronti degli eserciti ondeggiano. I reggimenti che entrano ed escono formano promontori e golfi. Tutti questi scogli si muovono continuamente gli uni davanti agli altri. Dov'era la fanteria arriva l'artiglieria. Dov'era l'artiglieria accorre la cavalleria. I battaglioni sono evanescenti. Qui c'era qualcosa. Cercate, è scomparsa. Le schiarite si spostano, le pieghe oscure avanzano e retrocedono. Una sorta di vento del sepolcro spinge, respinge, gonfia e disperde quelle tragiche moltitudini. Che cos'è una mischia? Un'oscillazione. L'immobilità di un piano matematico esprime un minuto e non una giornata. Per dipingere una battaglia ci vogliono quei possenti pittori che hanno il caos nel pennello. Rembrandt è più adatto di Van der Mölen. Van der Mölen, esatto a mezzogiorno, mente alle tre. La geometria inganna. Solo l'uragano è vero. È ciò che dà a Follard il diritto di contraddire Polibio. Aggiungiamo che v'è sempre un certo istante in cui la battaglia degenera in combattimento, si particolarizza e si frammenta in innumerevoli dettagli che per prendere a prestito un'espressione dello stesso Napoleone appartengono più alla biografia dei reggimenti che alla storia dell'esercito. Lo storico, in questo caso, ha un evidente diritto di riassunto. Non può che cogliere i contorni principali della lotta e non è dato ad alcun narratore, per quanto coscienzioso sia, di fissare assolutamente la forma di quell'orribile nube che si chiama battaglia. Questo, che è vero per tutti i grandi scontri armati, è particolarmente applicabile a Waterloo. Tuttavia, nel pomeriggio, a un certo momento, la battaglia si precisò. Capitolo VI. Le quattro del pomeriggio. Verso le quattro, la situazione dell'esercito inglese era grave. Il principe d'Orange comandava il centro, Hill l'ala destra, Picton l'ala sinistra. Il principe d'Orange, disperato e intrepido, gridava ai belgo-olandesi, Nassau, Brunswick, mai indietreggiare! Hill, indebolito, veniva ad addossarsi a Wellington. Picton era morto. Nello stesso istante in cui gli inglesi avevano preso ai francesi la bandiera del centocinquesimo di linea, i francesi avevano ucciso agli inglesi il generale Picton, con una pallottola in testa. La battaglia per Wellington aveva due punti d'appoggio, Hugumont e le Heysant. Hugumont teneva ancora, ma bruciava. La Heysant era presa. Del battaglione tedesco che la difendeva, sopravvivevano solo 42 uomini. Tutti gli ufficiali, meno cinque, erano morti o prigionieri. 3.000 combattenti si erano massacrati in quel pagliaio. Un sergente delle guardie inglesi, il primo pugile d'Inghilterra, ritenuto dai suoi compagni invulnerabile, vi era stato ucciso qui da un tamburino francese. Bering fu sloggiato, Alten sciabolato. Varie bandiere andarono perdute, fra cui una della divisione Alten e una del battaglione dell'Hunenburg, portata da un principe della famiglia Dupont. Gli scozzesi grigi non esistevano più. I dragoni pesanti di Ponsby erano frantumati. Questa valorosa cavalleria aveva piegato sotto i lancieri di Brot e i corazzieri di Travers. Di 1.200 cavalli ne restavano 600. Dei tre tenenti colonnelli. Due erano a terra. Hamilton ferito. Mater ucciso. Ponsby era caduto, trapassato da sette colpi di lancia. Gordon era morto. Marsh era morto. Due divisioni, la quinta e la sesta, erano distrutte. Hugumont intaccata, la ressante presa. Non c'era più che un nodo, il centro. Quel nodo teneva sempre. Wellington lo rafforzò. Vi chiamò Hill, che era Merbe Brun. Vi chiamò Chassé, che era Brunleleux. Il centro dell'esercito inglese, un po' concavo, molto denso e molto compatto, era in forte posizione. Occupava l'altopiano di Mont Saint-Jean, avendo dietro di sé il villaggio e davanti il pendio, allora molto aspro. Si addossava a quella forte casa di pietra, che era all'epoca un bene demaniale di nivelle e che segna l'intersezione delle strade, massa del XVI secolo così robusta che i proiettili vi rimbalzavano senza intaccarla. Tutto attorno al pianoro, gli inglesi avevano tagliato qua e là le siepi, formato postazioni d'artiglieria tra i biancospini, piazzato bocche da fuoco tra due rami, fortificato la macchia. La loro artiglieria era in agguato tra i cespugli. Questo lavoro punico, incontestabilmente autorizzato dalla guerra che ammette la trappola, era così ben fatto che Haxo, inviato dall'imperatore alle nove del mattino per riconoscere le batterie nemiche, non aveva visto nulla ed era tornato a dire a Napoleone che non c'erano ostacoli tranne le due barricate che sbarravano le strade di Nivelle e di Genap. Era il momento in cui le messi erano alte. Sull'orlo del pianoro, un battaglione della brigata Kemp, il 95esimo, armato di carabine, era sdraiato fra le spighe. Così assicurato e puntellato, il centro dell'esercito anglo-olandese era in buona posizione. Il pericolo di quella situazione era la foresta di Suogne, allora contigua al campo di battaglia e tagliata dagli stagni di Grenadel e Bootsford. Un'armata non avrebbe potuto ripiegarvi senza dissolversi. I reggimenti vi si sarebbero subito disgregati. L'artiglieria si sarebbe perduta nei pantani. La ritirata, secondo l'opinione di molte persone del mestiere, contestata da altri, è vero, si sarebbe trasformata colà in un si salvi chi può. Wellington aggiunse a quel centro una brigata di chassé, tolta all'ala destra, e una brigata di Wink, tolta all'ala sinistra, più la divisione Clinton. Ai suoi inglesi, ai reggimenti di Harkett, alla brigata di Mitchell, alle guardie di Mettland, diede come sostegno e contrafforti la fanteria del Brunswick, il contingente del Nassau, gli annoveriani di Kilmensegg e i tedeschi di Ompteda. Questo gli mise sotto mano 26 battaglioni. L'ala destra, come dice Chagat, fu ripiegata dietro il centro. Una batteria enorme era mascherata da sacchi di terra nel punto in cui si trova oggi quello che si chiama il Museo di Waterloo. Wellington aveva inoltre in un avvallamento del terreno i dragoni guardie di Somerset, 1400 cavalli. Era l'altra metà di quella cavalleria inglese, tanto giustamente celebre. Ponce be distrutto, restava Somerset. La batteria, che una volta terminata, sarebbe stata quasi una ridotta, era disposta dietro un muro di giardino bassissimo, rivestito in fretta di una camicia di sacchi di sabbia e di un'ampia scarpata di terreno. L'opera non era finita, non c'era stato il tempo di cintarla con una palizzata. Wellington, inquieto ma impassibile, era a cavallo e vi rimase per tutto il giorno nello stesso atteggiamento, poco più avanti del vecchio mulino di Mont-Saint-Jean, che esiste ancora, sotto un olmo, che un inglese, poi vandalo entusiasta, ha comprato per 200 franchi, segato e portato via. Wellington fu colà freddamente eroico. I proiettili piovevano. L'aiutante di campo Gordon era caduto poco prima al suo fianco. Lord Hill, mostrandogli un obice che scoppiava, gli disse, «Mi Lord, quali sono vostre istruzioni e quali ordini ci lasciate se vi fate uccidere?» «Di fare come me», rispose Wellington. A Clinton disse laconicamente, «tenere qui fino all'ultimo uomo». La giornata visibilmente si metteva male. Wellington gridava ai suoi vecchi compagni di Talavera, di Vittoria e di Salamanca. «Boys, si può forse immaginare di mollare? Pensate alla vecchia Inghilterra!» Verso le quattro, la linea inglese si mosse all'indietro. D'un tratto non si videro più sulla cresta del pianoro che l'artiglieria e i fucilieri. Il resto disparve. I reggimenti, scacciati dagli odici e dalle palle francesi, ripiegarono nel fondo che taglia ancora oggi il sentiero di servizio della fattoria di Mont-Saint-Jean. Fu compiuto un movimento retrogrado. Il fronte di battaglia inglese si sottrasse. Wellington arretrò. «Inizia la ritirata!» esclamò Napoleone. Capitolo VII. Napoleone di buon umore. L'imperatore, benché malato e infastidito a cavallo da un piccolo dolore, non era mai stato di buon umore come quel giorno. Dall'alba la sua impenetrabilità sorrideva. Il 18 giugno 1815 quell'anima profonda, mascherata di marmo, sfavillava ciecamente. L'uomo che era stato cupo ad Osterlitz fu Gaio a Waterloo. I grandi predestinati hanno di questi controsensi. «Le nostre gioie sono ombra. Il supremo sorriso è di Dio». «Ridet Caesar!» Pompeius Flebit, dicevano i legionari della legione Fulminatrix. Pompeo questa volta non doveva piangere, ma è certo che Cesare rideva. Fin dalla vigilia, la notte, a luna, esplorando a cavallo sotto il temporale e la pioggia battente con Bertrand, le colline circostanti Rossomme, soddisfatto di vedere la lunga linea dei fuochi di campo inglesi che illuminavano tutto l'orizzonte da Frichmont a Prenlalleux, gli era parso che il destino, da lui convocato a data fissa sul campo di Waterloo, fosse puntuale. Aveva affermato il cavallo ed era rimasto per qualche tempo immobile, guardando i lampi, ascoltando il tuono, e si sentì quel fatalista gettare all'ombra queste parole misteriose. «Siamo d'accordo». Napoleone si sbagliava. Non erano più d'accordo. Non si era concesso un istante di sonno. Ogni attimo di quella notte era stato da lui segnato con un atteggiamento gioioso. Aveva percorso tutta la linea delle sentinelle, fermandosi qua e là per parlare alle vedette. Alle due e mezza, presso il bosco di Hugumont, aveva inteso i passi di una colonna in marcia. Aveva creduto per un attimo alla ritirata di Wellington. Aveva detto a Bertrand «È la retroguardia inglese che si muove per levare il campo. Farò prigionieri i 6.000 inglesi che sono appena sbarcati a Ostenda». Chiacchierava, espansivo. Aveva ritrovato quel brio dello sbarco del primo marzo, quando mostrava al gran maresciallo il contadino entusiasta del Golfo Juan, esclamando «Guardate, Bertrand, abbiamo già dei rinforzi». La notte dal 17 al 18 giugno scherniva Wellington. Quel piccolo inglese ha bisogno di una lezione, diceva Napoleone. La pioggia raddoppiava di intensità, tuonava mentre l'imperatore parlava. Alle tre e mezza del mattino aveva perso un'illusione. Alcuni ufficiali mandati in ricognizione gli avevano annunciato che il nemico non faceva alcun movimento. Nulla si muoveva, non un fuoco di bivacco era stato spento. L'armata inglese dormiva. Il silenzio era profondo sulla terra. Non si sentiva rumore che in cielo. Alle quattro gli esploratori gli avevano condotto un contadino. Questi aveva fatto da guida ad una brigata di galleria inglese, probabilmente la brigata Vivillon, che andava a prendere posizione nel villaggio di Ohan, all'estrema sinistra. Alle cinque due disertori belgi gli avevano riferito che avevano lasciato il loro reggimento e che l'esercito inglese aspettava di dar battaglia. «Tanto meglio!» aveva esclamato Napoleone. «Preferisco travolgerli che farli scappare». La mattina, sulla proda che forma l'angolo della strada di Plancenuot, aveva messo piede a terra nel fango. Si era fatto portare dalla fattoria di Rosson un tavolo da cucina e una sedia da contadino. Si era seduto con un fascio di paglia come tappeto e aveva spiegato sul tavolo la mappa del campo di battaglia, dicendo a Soule «stupenda scacchiera». In seguito alle piogge della notte, i convogli di viveri, impantanati nelle strade dissestate, non erano riusciti ad arrivare per la mattina. I soldati non avevano dormito, erano bagnati fradici e digiuni, il che non aveva impedito a Napoleone di gridare allegramente a Nei «abbiamo 90 probabilità su 100». Alle otto avevano portato la colazione dell'imperatore. Egli vi aveva invitato diversi generali. Facendo colazione si era parlato di Wellington, che l'antivigilia a Bruxelles era andato al ballo della duchessa di Somerset. E Soule, rude uomo di guerra con la sua figura di arcivescovo, aveva detto «il vero ballo è per oggi». L'imperatore aveva canzonato Nei, che diceva «Wellington non sarà così ingenuo da aspettare vostra maestà». Era il suo modo di fare del resto. «Celiava volentieri», dice Fleury de Chabulon. «Il fondo del suo carattere era un umore gioviale», dice Gugu. Abbondava in facezie piuttosto bizzarre che intelligenti, dice Benjamin Constant. Queste gaiezze da gigante meritano di essere notate. Era stato lui a soprannominare i suoi granatieri «les grognards», i brontoloni. Gli pizzicava le orecchie, gli tirava i baffi. «L'imperatore non faceva che scherzare con noi», disse uno di loro. Durante il misterioso tragitto dall'isola d'Elba alla Francia, il 27 febbraio in alto mare, il brick della marina di guerra francese Zephyr, aveva incontrato il brick en constant, su cui era nascosto Napoleone, e aveva chiesto notizie di Napoleone. L'imperatore, che in quel momento portava ancora sul cappello la coccarda bianca e amaranto, punteggiata di api, da lui adottata all'isola d'Elba, aveva impugnato ridendo il megafono e aveva risposto lui stesso «l'imperatore sta benissimo». Chi ride della sorte è in armonia con gli eventi. Napoleone aveva avuto diversi attacchi di quel riso durante la colazione di Waterloo. Dopo la colazione si era raccolto per un quarto d'ora, poi due generali si erano seduti sul fascio di paglia, una penna in mano, un foglio di carta sulle ginocchia, e l'imperatore aveva dettato l'ordine di battaglia. Alle nove, nel momento in cui l'armata francese, scaglionata e messa in movimento su cinque colonne, si era dispiegata, le divisioni su due linee, l'artiglieria tra le brigate, musica in testa al suono delle marce militari con lo rullo dei tamburi e gli squilli delle trombe, potente, vasta, gioiosa, mare di elmi, di sciabole e di baionette all'orizzonte, l'imperatore commosso aveva esclamato a due riprese, magnifico, magnifico. Dalle nove alle dieci e mezza, tutta l'armata, cosa che appare incredibile, aveva preso posizione e si era schierata su sei linee, formando, per ripetere l'espressione dell'imperatore, la figura di sei V. Qualche istante dopo la formazione del fronte di battaglia, in quel profondo silenzio da vigilia dell'uragano che precede la mischia, vedendo sfilare le tre batterie da dodici, distaccate per suo ordine dai tre corpi di Erlon, di Reil e di Lubo, e destinate a dare inizio all'azione battendo Mont-Saint-Jean, dove si intersecano le strade di Nivelle e di Genap, l'imperatore aveva battuto sulla spalla di Axo, dicendogli, ecco ventiquattro belle fanciulle, generale. Sicuro della riuscita, aveva incoraggiato con un sorriso al suo passaggio davanti a lui la compagnia di zappatori del primo corpo, destinata a barricarsi in Mont-Saint-Jean, una volta preso il villaggio. Tutta quella serenità non era stata turbata che da un motto di pietà altera, vedendo alla sua sinistra, in un punto in cui oggi c'è una gran tomba, ammassarsi coi loro superbi cavalli, quegli ammirevoli scozzesi grigi, aveva detto «che peccato». Poi era montato a cavallo, si era portato al di là di Rosson e aveva scelto come osservatorio una collinetta erbosa, a destra della strada da Genap a Bruxelles, che fu la sua seconda postazione durante la battaglia. La terza postazione, quella delle sette di sera, tra la bella Lyons e la Réissante, è temibile. È un poggio abbastanza elevato, che esiste ancora, e dietro il quale la guardia era ammassata in un declivio. Attorno a quel poggio, le pallottole rimbalzavano sul selciato della strada fino a Napoleone. Come a Brienne, sopra la sua testa fischiavano le pallottole e i proiettili. Sono state raccolte, quasi nel punto in cui posavano gli zoccoli del suo cavallo, pallottole smangiate, vecchie lami di sciabola e palle informi, corrose dalla ruggine. Scabra rubigine. Qualche anno fa vi fu dissepolto un obice da 60, ancora carico, la cui spoletta si era spezzata rasente alla bomba. Era in quest'ultima postazione che l'imperatore diceva alla sua guida alla costa, contadino ostile, smarrito, attaccato alla sella di un ussaro, che si voltava ad ogni raffrica di mitraglia e cercava di nascondersi dietro Napoleone. Imbecille, è vergognoso, ti farai ammazzare nella schiena. Colui che scrive queste righe ha trovato personalmente nelle zolle friabili di questo colle, scavando nella sabbia, i resti del colletto di una bomba, disgregati dall'ossido di 46 anni e vecchi tronconi di ferro che si spezzavano come bastoni di sambuco tra le dita. Le ondulazioni delle piane diversamente inclinate in cui ebbe luogo lo scontro tra Napoleone e Wellington non sono più, tutti lo sanno, quali erano il 18 giugno 1815. Prelevando da questo campo funebre quanto serviva per fargli un monumento, ne mutarono il rilievo reale e la storia, sconcertata, non vi si riconosce più. Per glorificarlo lo sfigurarono. Wellington, due anni dopo, rivedendo Waterloo, aveva esclamato, mi hanno cambiato il campo di battaglia. Là dove oggi si trova la grande piramide di terra sormontata da un leone, c'era una cresta che verso la strada di Nivelle si abbassava in rampa praticabile, ma che dal lato della strada di Genap era in effetti una scarpata. L'elevazione di questa scarpata può essere misurata ancora oggi dall'altezza dei due tumuli delle grandi sepolture che fiancheggiano la strada da Genap a Bruxelles, una la tomba inglese a sinistra, l'altra la tomba tedesca a destra. Non c'è una tomba francese, per la Francia l'intera piana è un sepolcro. Grazie alle mille e mille carrettate di terra accumulate in un pendio alto 150 piedi e per mezzo miglio di circuito, l'altopiano di Mont-Saint-Jean è oggi accessibile con una dolce pendenza. Il giorno della battaglia, soprattutto dal lato della Hessante, era di accesso aspro e ripido. Il versante era colà tanto inclinato che i cannoni inglesi non vedevano sotto di loro la fattoria situata in fondo al vallone, centro dello scontro. Il 18 giugno 1815 le piogge avevano dirupato ulteriormente il pendio, il fango ostacolava la salita e non solo ci si arrampicava ma ci si impantanava. Lungo la cresta dell'altopiano correva una specie di fossato impossibile a vedersi per un osservatore lontano. Cos'era quel fossato? Diciamolo, Dorin-la-Leu è un villaggio del Belgio, Orin un altro. Questi villaggi, entrambi nascosti nelle pieghe del terreno, sono uniti da una strada di circa una lega e mezza che attraversa una piana ondulata e sovente entra e affonda nelle colline come un solco, il che la trasforma in diversi punti in una gola. Nel 1815, come oggi, quella strada tagliava la cresta dell'altipiano di Mont-Saint-Jean, fra le due strade di Genap e di Nivelle, solo che oggi è a livello della pianura, mentre allora era incassata. Le hanno tolto le sue scarpate per farne il colle monumento. Questa strada era ed è ancora una trincea per la maggior parte del suo percorso. Trincea infossata a volte per una dozzina di piedi, le cui scarpate troppo ripide franavano qua e là, soprattutto d'inverno, sotto le intemperie. Vi capitava spesso qualche incidente. All'entrata di Brun-Lalleux, la carreggiata era così stretta che un passante era stato schiacciato da un carro, come testimonia una croce di pietra rizzata presso il cimitero, che reca il nome del morto, Monsieur Bernard de Brier, mercante di Bruxelles, e la data dell'incidente, febbraio 1637. Era così profonda sull'altopiano di Mont-Saint-Jean che un contadino, Mathieu Niquez, vi era stato schiacciato da una frana nel 1783, come testimoniava un'altra croce di pietra, il cui fastigio è sparito nello sterro, ma il cui piedistallo rovesciato è ancora visibile oggi sul pendio erboso a sinistra della strada tra la Heysant e la fattoria di Mont-Saint-Jean. In un giorno di battaglia, questa strada intrincea che nulla faceva presagire, fossato al sommo del pendio lungo tutta la cresta del Mont-Saint-Jean, solco nascosto nel terreno, era invisibile, vale a dire terribile. Capitolo VIII. L'imperatore pone una domanda alla guida alla coste. Dunque, la mattina di Waterloo, Napoleone era contento. Aveva ragione. Il piano di battaglia da lui concepito, l'abbiamo constatato, era in effetti ammirevole. Una volta ingaggiata la battaglia, le sue peripezie diversissime, la resistenza di Hugumont, la tenacia della Heysant, Baudouin ucciso, Foix messo fuori combattimento, la muraglia inattesa contro cui si era frantumata la brigata Assoy, la fatale storditaggine di Guilleminot che non aveva bombe né sacchi di polvere, l'impantanamento delle batterie, i quindici pezzi senza scorta travolti da Oxbridge in una strada incassata, lo scarso effetto delle bombe che cadevano nelle linee inglesi, affondando nel terreno reso molle dalla pioggia, senza provocare altro che vulcani di fango per cui la mitraglia si mutava in schizzi di melma, l'inutilità della dimostrazione di Piret su Brun-Lalleux, tutta quella cavalleria, quindici squadroni quasi annientata, l'ala destra inglese poco disturbata, dall'ala sinistra poco scalfita, lo strano malinteso di Ney che ammassava invece di scaglionarle, le quattro divisioni del primo corpo, spessori di 27 file e fronti di 200 uomini destinati così alla mitraglia, gli spaventosi varchi delle palle in quelle masse, le colonne d'attacco disunite, la batteria di sbieco, bruscamente smascherata sul loro fianco, bourgeois, donzelò e du route compromessi, qui ho respinto, il tenente vieux, quell'ercole uscito dalla scuola politecnica, ferito nel momento in cui si sfondava a colpi d'ascia la porta della Ressante, sotto il diluvio di fuoco della barricata inglese che sbarrava l'angolo della strada tra Genap e Bruxelles, la divisione Marcogné, presa tra la fanteria e la cavalleria, fucilata a bruciapelo tra il grano da Best e Pack, sciabolata da Ponzobi, la sua batteria di sette pezzi inchiodata, il principe di Sassonia Weimar che teneva e conservava, malgrado il conte di Erlone, Frischmont e Smohen, la bandiera del centocinquesimo, presa, la bandiera del quarantacinquesimo, presa, quel lussaro nero prussiano, arrestato dagli scorridori della colonna volante di 300 cacciatori che batteva la zona tra Vavre e Place Noire, le cose inquietanti che quel prigioniero aveva detto il ritardo di Grouchy, i 1500 uomini uccisi in meno di un'ora nel frutteto di Augumont, i 1800 uomini abbattuti in meno tempo ancora attorno alla Heysant, tutti questi incidenti tempestosi, passando come le nuvole della battaglia davanti a Napoleone, avevano appena atturbato il suo sguardo e non avevano affatto oscurato quel volto imperiale della sicurezza. Napoleone era abituato a guardare la guerra in faccia, non faceva mai l'addizione straziante dei dettagli, cifra per cifra, le cifre gli importavano poco pur che dessero questo totale, vittoria. Che gli inizi fossero incerti non lo allarmava affatto, lui, che si credeva padrone e signore della fine, sapeva tendere, ritenendosi fuori causa, e trattava il destino da pari a pari, sembrava dire alla sorte, non oserai. Diviso tra luce e ombra, Napoleone si sentiva protetto nel bene e tollerato nel male, aveva, o credeva di avere una connivenza, si potrebbe dire una complicità degli eventi, equivalente all'antica invulnerabilità. E tuttavia, quando si ha dietro di sé la Beresina, Lipsia e Fontainebleau, sembra che si potrebbe diffidare di Waterloo. Un misterioso aggrottar di sopracciglia diventa visibile in fondo al cielo. Nel momento in cui Wellington retrocedette, Napoleone trasalì, vide istantaneamente l'altopiano di Mont Saint-Jean sguarnirsi e il fronte dell'armata inglese sparire. Essa si radunava, ma si sottraeva. L'imperatore si sollevò a metà sulle staffe, il lampo della vittoria passò nei suoi occhi. Wellington, serrato contro la foresta di Soigne e distrutto, significava l'abbattimento definitivo dell'Inghilterra da parte della Francia, significava Cressy, Poitiers, Malploquet e Ramillet vendicate. L'uomo di Marengo cancellava ansicur. L'imperatore allora, meditando sulla peripezia terribile, fece scorrere per l'ultima volta il cannocchiale su tutti i punti del campo di battaglia. La sua guardia, l'arma al piede dietro di lui, lo osservava dal basso con una sorta di religiosità. Egli pensava, esaminava i versanti, notava le pendenze, scrutava le macchie d'alberi, i riquadri delle messi, il sentiero. Sembrava contare ogni cespuglio. Per un po' guardò fisso le barricate inglesi sulle due strade, due ampie abbattute d'alberi, quella della strada di Genap sopra la Hey Saint, armata di due cannoni, gli unici di tutta l'artiglieria inglese, che vedessero il fondo del campo di battaglia, e quella della strada di livello dove scintillavano le baionette olandesi delle brigate chassé. Notò accanto a questa barricata la vecchia cappella di Saint-Nicolas, dipinta di bianco, che si trova all'angolo della traversa per Brun-Lalleux. Si chinò e parlò a mezza voce alla guida alla costa. La guida fece col capo un cenno negativo, probabilmente perfido. L'imperatore si raddrizzò e si concentrò. Wellington aveva indietreggiato. Non restava che perfezionare quell'arretramento con un annientamento. Voltandosi bruscamente, Napoleone spedì una staffetta a Parigi a sprombattuto per annunciare che la battaglia era vinta. Napoleone era uno di quei geni da cui si sprigiona il fulmine. Aveva colto il momento in cui scagliare il colpo di folgore. Diede ordine ai corazzieri di Milot di prendere l'altopiano di Mont-Saint-Jean. Capitolo nono. L'imprevisto. Erano 3500. Formavano un fronte di un quarto di lega. Erano giganti su cavalli colossali. Erano 26 squadroni e avevano dietro di loro, per appoggiarli, la divisione di Lefevre desunette, i 106 gendarmi scelti, i cacciatori della guardia, 1197 uomini, e i lanceri della guardia, 880 lance. Portavano il casco senza criniera e la corazza di ferro battuto, con le pistole d'arcione nelle fondine e la lunga sciabola spada. Al mattino tutta l'armata li aveva ammirati, quando alle nove, le trombe che squillavano, tutte le bande musicali che suonavano Veillon o Celui de l'Empire, erano venuti, fitta a colonna, una batteria al fianco, l'altra al centro, a schierarsi su due ranghi fra la strada di Genap e Frichmont, e a prendere il loro posto di combattimento in quella possente seconda linea, così sapientemente composta da Napoleone, la quale, avendo all'estremità di sinistra i corazzieri di Kellerman, e alla sua estremità di destra i corazzieri di Millot, aveva per così dire due ali di ferro. L'aiutante di campo Bernard portò a loro l'ordine dell'imperatore. Ney sfoderò la spada e prese la testa. Gli enormi squadroni si mossero. Allora si vide uno spettacolo formidabile. Tutta quella cavalleria, sciabole elevate, stendardi e trombe al vento, schierata in colonne per divisioni, scese in un unico movimento e come un sol uomo, con la precisione di una riete di bronzo che apre una breccia, la collina della bella Lyons. Si immerse nella temibile valle in cui tanti uomini erano già caduti. Vi disparve nel fumo. Poi, uscendo da quell'ombra, riapparve sull'altro versante del vallone, sempre compatta e serrata, risalendo al gran trotto, attraverso un nugolo di mitraglia che la crivellava, lo spaventevole pendio di fango dell'altopiano di Mont Saint-Jean. Salivano, gravi, minacciosi, imperturbabili. Negli intervalli della moschetteria e dell'artiglieria risuonava quel calpestio colossale. Essendo due divisioni, erano due colonne. La divisione Wattier aveva la destra, la divisione Delors la sinistra. Sembrava di vedere da lontano allungarsi verso la cresta dell'altopiano due immense serpi d'acciaio. Attraversarono la battaglia come un prodigio. Nulla di simile si era più visto dalla presa della grande ridotta della Moscova da parte della cavalleria pesante. Non era più Murat, ma c'era ancora Nehi. Sembrava che quella massa fosse divenuta mostro e non avesse che un'anima. Ogni squadrone ondeggiava e si gonfiava come un tentacolo del polipo. Si scorgevano attraverso un vasto lago di fumo, lacerato qua e là. Confusione di caschi, di grida, di sciabole, balzi burrascosi delle groppe dei cavalli, tra il cannone e la fanfara, tumulto, disciplinato e terribile. Al di sopra le corazze, come le scaglie sull'idra. Sembrano racconti di un'altra epoca. Qualcosa di simile a questa visione appariva senza dubbio nelle vecchie epopee orfiche che narravano di uomini cavalli, degli antichi ipantropi, quei titani dal volto umano e dal pettorale equino il cui galoppo scalò l'Olimpo, orribili, invulnerabili, sublimi, dei e bestie. Bizzarra coincidenza numerica. 26 battaglioni aspettavano quei 26 squadroni. Dietro la cresta dell'altopiano, all'ombra della batteria mascherata, la fanteria inglese, schierata in 13 quadrati, due battaglioni per quadrato e su due file, 7 sulla prima, 6 sulla seconda, il calcio del fucile appoggiato alla spalla, la canna spianata contro ciò che stava avvicinandosi, calma, muta, immobile, aspettava. Non vedeva i corazzieri e i corazzieri non la vedevano. Sentiva montare quella marea d'uomini. Sentiva crescere il fragore dei 3.000 cavalli, il calpestio alternativo e simmetrico degli zoccoli al gran trotto, il fruscio delle corazze, il clicchettio delle sciabole e una sorta di gran respiro feroce. Ci fu un silenzio terribile. Poi, all'improvviso, una lunga fila di braccia tese che brandivano sciabole, apparve sopra la cresta e i caschi e le trombe e gli stendardi e 3.000 teste dai baffi grigi che gridavano «Viva l'imperatore!». Tutta quella cavalleria sboccò sull'altopiano e fu come l'avvento di un terremoto. D'un tratto, cosa tragica, alla sinistra degli inglesi, alla nostra destra, la testa della colonna di corazzieri si impennò con un clamore spaventoso. Giunti sul culmine della cresta, sfrenati, persi nella loro furia e nella loro corsa di sterminio, sui quadrati e sui cannoni, i corazzieri avevano scorto tra loro e gli inglesi un fossato, una fossa. Era la strada incassata di Owen. Fu un istante spaventoso. Il burrone era lì, inatteso, spalancato, a picco sotto le zampe dei cavalli, profondo due tese tra due scarpate. La seconda fila vi spinse la prima e la terza vi spinse la seconda. I cavalli si impennavano, si gettavano all'indietro, cadevano sulla groppa, scivolavano con le quattro zampe in aria, schiacciando e scagliando a terra i cavalieri. Non c'era mezzo di retrocedere. Tutta la colonna non era più che un proiettile. La forza accumulata per schiacciare gli inglesi schiacciò i francesi. Il burrone inesorabile non poteva che colmarsi. cavalieri e cavalli vi rotolavano uno sull'altro, stritolandosi, formando una sola carne in quella voragine, e quando quella fossa fu piena di uomini vivi, gli altri vi passarono sopra. Quasi un terzo della brigata di Ubois piombò in quell'abisso. Questo diede inizio alla perdita della battaglia. Una tradizione locale, che evidentemente esagera, dice che duemila cavalli e 1500 uomini furono sepolti nella strada incassata di Ohan. Questa cifra, probabilmente, comprende tutti gli altri cadaveri che furono gettati in quel burrone, l'indomani del combattimento. Napoleone, prima di ordinare quella carica dei corazzieri di Miho, aveva scrutato il terreno, ma non aveva potuto vedere quel camminamento, che non formava neppure una ruga sulla superficie dell'altopiano. Avvertito, peraltro, e messo in guardia dalla cappelletta bianca che ne segna la svolta sulla strada di Nivelle, aveva posto una domanda alla guida alla costa, probabilmente sull'eventualità di un ostacolo. Lacoste aveva risposto di no. Si potrebbe quasi dire che dal cenno di quel contadino derivò la catastrofe di Napoleone. Altre fatalità dovevano ancora presentarsi. Era possibile che Napoleone vincesse quella battaglia? Noi rispondiamo di no. Perché? A causa di Wellington? A causa di Blücher? No. A causa di Dio. Bonaparte vincitore a Waterloo. Questo non era più nella legge del XIX secolo. Un'altra serie di fatti si preparava in cui Napoleone non aveva più posto. La cattiva volontà degli eventi si era annunciata da lunga data. Era tempo che quell'uomo gigantesco cadesse. L'eccessivo peso di quell'uomo nel destino umano turbava l'equilibrio. Quell'individuo contava da solo più del gruppo universale. Queste pletore di tutta la vitalità umana, concentrate in una sola testa, il mondo che risale al cervello di un uomo, questo sarebbe mortale per la civiltà, se potesse durare. Era venuto il momento per l'incorruttibile equità suprema di dare un avviso. Probabilmente i principi e gli elementi da cui dipendono le gravitazioni regolari, nell'ordine morale come nell'ordine materiale, si lamentavano. Il sangue che fuma, i cimiteri stracolmi, le madri in lacrime, sono querele temibili. Vi sono, quando la terra soffre di un sovraccarico, misteriosi gemiti dell'ombra che l'abisso intende. Napoleone era stato denunciato nell'infinito e la sua caduta era decisa. Egli turbava Dio. Waterloo non è una battaglia. È il mutamento di fronte dell'universo. Capitolo X. L'Altopiano di Mont-Saint-Jean Nello stesso momento, insieme al burrone, si era smascherata la batteria. Sessanta cannoni e i tredici quadrati tirarono a bruciapelo sui corazzieri. L'intrepido generale Delors fece il saluto militare alla batteria inglese. Tutta l'artiglieria volante inglese era rientrata al galoppo nei quadrati. I corazzieri non ebbero neppure un istante di respiro. Il disastro della strada in trincea li aveva decimati, ma non scoraggiati. Erano di quegli uomini che, calati di numero, aumentano di coraggio. Solo la colonna Wattier aveva sofferto il disastro. La colonna Delors, che Ney aveva fatto obliquare a sinistra, come se presentisse la trappola, era arrivata intera. I corazzieri si lanciarono sui quadrati inglesi. Ventre a terra, briglie sciolte, sciabola fra i denti, pistola in pugno. Così fu l'attacco. Vi sono momenti nelle battaglie in cui lo spirito indurisce l'uomo fino a mutare il soldato in statua, in cui tutta quella carne si fa granito. I battaglioni inglesi, disperatamente attaccati, non si mossero. Allora fu spaventoso. Tutti i lati dei quadrati inglesi furono attaccati nello stesso tempo. Un vortice frenetico li avviluppò. Quella fredda fanteria rimase impassibile. La prima fila, in ginocchio, a terra, riceveva i corazzieri sulle baionette. La seconda fila sparava loro addosso. Dietro la seconda fila, i cannonieri caricavano i pezzi. Il fronte del quadrato si apriva, lasciava passare un'eruzione di mitraglia e si richiudeva. I corazzieri rispondevano schiacciando i difensori. I loro grandi cavalli si impennavano, scavalcavano le file, saltavano sopra le baionette e ricadevano giganteschi in mezzo a quelle quattro mura viventi. Le palle aprivano vuoti tra i corazzieri. I corazzieri aprivano brecce nei quadrati. File di uomini sparivano stritolate sotto i cavalli. Le baionette affondavano nei ventri di quei centauri, d'onde ferite mostruose, forse mai viste altrove. I quadrati, rosi da quella cavalleria forse nata, si restringevano senza titubanza. Inesauribili di mitraglia esplodevano in mezzo agli attaccanti. La forma di quel combattimento era mostruosa. Quei quadrati non erano più battaglioni, erano crateri. Quei corazzieri non erano più una cavalleria, erano una tempesta. Ogni quadrato era un vulcano attaccato da una nube. La lava combatteva la folgore. Il quadrato dell'estrema destra, il più esposto di tutti essendo allo scoperto, fu quasi annientato fin dai primi colpi. Era formato dal settantacinquesimo reggimento di Highlanders. Il suonatore di Cornemusa al centro, mentre attorno a lui ci si sterminava, abbassando con profonda disattenzione i suoi occhi melanconici, pieni di riflessi delle foreste e dei laghi. Seduto su un tamburo, il Pibroch sotto braccio suonava alle arie della montagna. Quegli scozzesi morivano pensando al Ben Lothian, come i greci sovvenendosi di Argo. La sciabola di un corazziere, abbattendo il Pibroch e il braccio che lo reggeva, fece cessare il canto, uccidendo il cantore. I corazzieri, relativamente poco numerosi, decimati dalla catastrofe del burrone, avevano contro di loro pressoché tutta l'armata inglese, ma si moltiplicavano. Ogni uomo ne valeva dieci. Intanto qualche battaglione annoveriano cedeva. Wellington se ne avvide e pensò alla sua cavalleria. Se Napoleone in quello stesso momento avesse pensato alla sua fanteria, avrebbe vinto la battaglia. Questa distrazione fu il suo grande, fatale errore. D'un tratto, i corazzieri attaccanti si videro attaccati. La cavalleria inglese era alle loro spalle. Davanti a loro i quadrati, dietro di loro Somerset. Somerset erano i 1400 dragoni guardie. Somerset aveva alla sua destra Dornberg, con i cavalleggeri tedeschi, e alla sinistra Trip, con i carabinieri belgi. I corazzieri, attaccati di fianco e in testa, davanti e dietro, dalla cavalleria e dalla fanteria, dovettero far fronte da ogni parte. Che importava loro? Essi erano turbine. Il valore divenne inesprimibile. Inoltre avevano dietro di loro la batteria, sempre tonante. Ci voleva questo perché quegli uomini fossero colpiti nella schiena. Una delle loro corazze, forata alla scapola destra da un proiettile, si trova nella raccolta del museo di Waterloo. Per tali francesi non ci volevano che tali inglesi. Non fu più una mischia, fu un'ombra, una furia, un vertiginoso impeto d'animi e di coraggio, un uragano di spade lampi. In un istante i millequattrocento dragoni guardie. Non furono più che ottocento. Fuller, il loro tenente colonnello, cadde morto. Ney accorse con i lancieri e i cacciatori di Lefevre des Nouettes. L'altopiano di Mont-Saint-Jean fu preso, ripreso, preso ancora. I corazzieri lasciavano la cavalleria per tornare alla fanteria, o per meglio dire, tutta quella ressa formidabile. Si batteva senza che uno lasciasse l'altro. I quadrati tenevano sempre. Vi furono dodici assalti. Ney ebbe quattro cavalli uccisi sotto di sé. La metà dei corazzieri rimase sull'altopiano. Quella lotta durò due ore. L'armata inglese ne fu profondamente scossa. Non c'è dubbio che se non fossero stati indeboliti nel loro primo scontro, dal disastro della strada incassata, i corazzieri avrebbero travolto il centro e deciso la vittoria. Quella cavalleria straordinaria pietrificò Clinton, che aveva visto Talavera e Badakozz. Wellington, per tre quarti battuto, ammirava eroicamente. Diceva a mezza voce, sublime. I corazzieri annientarono sette quadrati su tredici, presero o inchiodarono sessanta cannoni e tolsero ai reggimenti inglesi sei bandiere, che tre corazzieri e tre cacciatori della guardia andarono a portare all'imperatore, davanti alla fattoria della Bella Lyons. La situazione di Wellington era peggiorata. Quella strana battaglia era come un duello tra due feriti a caniti, che pur combattendo e resistendo sempre perdono tutto il loro sangue, quale dei due cadrà per primo? La lotta sull'alto piano continuava. Fin dove si sono spinti i corazzieri? Nessuno può dirlo. Quel che è certo è che l'indomani della battaglia un corazziere e il suo cavallo furono trovati morti fra le travature della pesa delle carrozze a Mont-Saint-Jean, nel punto in cui si tagliano e si incontrano le quattro strade di Nivelle, Genap, La Hulp e Bruxelles. Quel cavaliere aveva attraversato le linee inglesi. Uno di quegli uomini che hanno raccolto quel cadavere vive ancora a Mont-Saint-Jean, si chiama Dehaz, allora aveva 18 anni. Wellington si sentiva vacillare, la crisi era vicina. I corazzieri non erano riusciti, nel senso che il centro non era stato sfondato. Poiché tutti tenevano l'alto piano, nessuno lo teneva e, in sostanza, esso rimaneva per lo più agli inglesi. Wellington aveva il villaggio e la piana culminante. Ney non aveva che la cresta e il pendio. Entrambi i contendenti sembravano radicati in quel suolo funebre. Ma l'indebolimento degli inglesi sembrava irrimediabile. L'emorragia di quell'armata era orribile. Kemp, all'ala sinistra, reclamava rinforzi. Non ce ne sono, rispondeva Wellington, si faccia uccidere. Quasi nello stesso minuto, singolare coincidenza che descrive l'esaurimento delle due armate, Ney chiedeva fanteria a Napoleone e Napoleone esclamava, fanteria, dove vuole che la prenda? Vuole che la fabbrichi? Tuttavia, l'armata inglese era la più malconcia. Le spallate furiose di quei grandi squadroni dalle corazze di ferro e dai petti d'acciaio avevano frantumato la fanteria. Alcuni uomini attorno ad una bandiera assegnavano il posto di un reggimento. Quel battaglione non era più comandato che da un capitano o da un tenente. La divisione Alten, già tanto maltrattata alla Hessante, era quasi distrutta. Gli intrepidi belgi della brigata Van Clus costellavano i campi di Segale lungo la strada di Nivelle. Non rimaneva quasi nulla di quei granatieri olandesi che nel 1811, mescolati in Spagna ai nostri ranghi, combattevano Wellington e nel 1815, affiancati agli inglesi, combattevano Napoleone. Le perdite di ufficiali erano considerevoli. Lord Oxbridge, che l'indomani fece seppellire la propria gamba, aveva il ginocchio fracassato. Se da parte francese, in quella lotta di corazzieri, Delors, Leritier, Colbert, Knoppe, Travers e Blancard erano fuori combattimento. Da parte inglese, Alten era ferito, Bourne era ferito, Delancey era morto, Van Meren era morto, Ompteda era morto. Tutto lo stato maggiore di Wellington era decimato e l'Inghilterra aveva la parte peggiore in questo sanguinoso equilibrio. Il secondo reggimento delle guardie a piedi aveva perso cinque tenenti colonnelli, quattro capitani e tre alfieri. Il primo battaglione del trentesimo fanteria aveva perso ventiquattro ufficiali e 112 soldati. Il settantanovesimo montanari aveva ventiquattro ufficiali feriti, diciotto ufficiali morti, quattrocentocinquanta soldati uccisi. Gli Ussari annoveriani di Cumberland, un intero reggimento, con alla testa il colonnello Huck, che doveva più tardi essere giudicato e radiato, avevano voltato le spalle alla mischia ed erano in fuga nella foresta di Soigne, in rotta fino a Bruxelles. I carriaggi, i servizi, i bagagli, i furgoni pieni di feriti, vedendo i francesi guadagnare terreno e avvicinarsi alla foresta, vi si precipitavano. Gli olandesi sciabolati dalla cavalleria francese gridavano allarme. Da Verre Cuckoo fino a Grandadelle, su una lunghezza di quasi due leghe in direzione di Bruxelles, c'era, a detta di testimoni ancora in vita, un ingorgo di fuggiaschi. Quel panico fu tale che contagiò il principe di Condé a Malin e Luigi XIII a Gand. A eccezione della debole riserva scaglionata dietro l'ambulanza stabilita nella fattoria di Mont-Saint-Jean e delle brigate Vivienne e Vandeleur che fiancheggiavano l'ala sinistra, Wellington non aveva più cavalleria. Una quantità di batterie giacevano smontate. Questi fatti sono confessati da Seaborne e Pringle, esagerando il disastro, si spinge fino a dire che l'armata anglo-olandese era ridotta a 34.000 uomini. Il duca di ferro manteneva la calma, ma le sue labbra erano illividite. Il commissario austriaco Vincent, il commissario spagnolo Alava, presenti alla battaglia nello stato maggiore inglese, credettero il duca perduto. Alle cinque, Wellington tirò fuori l'orologio e lo si sentì mormorare queste parole cupe, Blücher o la notte. Fu verso quel momento che una lontana linea di baionette scintillò sulle alture dalla parte di Frischmont. Questa è la peripezia di quel dramma gigante. Capitolo undicesimo Cattiva guida a Napoleone, buona guida a Bülow. È noto lo straziante equivoco di Napoleone, Groschi atteso, Blücher sopravvenuto in sua vece, la morte invece della vita. Il destino ha di queste svolte, ci si aspetta il trono del mondo, si intravede Sant'Elena. Se il pastorello che faceva da guida a Bülow, luogotenente di Blücher, gli avesse consigliato di sboccare dalla foresta sopra Frischmont invece che sotto Plansenois, l'aspetto del XIX secolo forse sarebbe stato diverso. Napoleone avrebbe vinto la battaglia di Waterloo. Per qualunque strada, tranne che a valle di Plansenois, l'armata prussiana si sarebbe imbattuta in un burrone invalicabile per l'artiglieria e Bülow non sarebbe arrivato. Un'ora di ritardo, è il generale prussiano Muffling a dirlo, e Blücher non avrebbe più trovato Wellington in piedi. La battaglia era perduta. Era tempo, si vede, che Bülow arrivasse. Del resto era molto in ritardo. Aveva bivaccato a Dion-Lemont ed era partito all'alba, ma le strade erano impraticabili e le sue divisioni si erano impantanate. I cannoni affondavano fino al mozzo nei solchi delle carreggiate. Inoltre, aveva dovuto passare la Dille sullo stretto ponte di Vavre. La strada che conduceva al ponte era stata incendiata dai francesi, i cassoni e i furgoni dell'artiglieria. Non potendo passare tra due file di case in fiamme, avevano dovuto attendere che l'incendio fosse spento. A mezzogiorno, l'avanguardia di Bülow non aveva ancora potuto raggiungere Chapelle Saint-Lambert. Se l'azione fosse iniziata due ore prima, si sarebbe conclusa alle quattro e Blücher sarebbe arrivato sulla battaglia vinta da Napoleone. Tali sono questi immensi casi, proporzionati ad un infinito che ci sfugge. Fin da mezzogiorno, l'imperatore, per primo, con il suo cannocchiale, aveva scorto all'estremo orizzonte qualcosa che ne aveva attirato l'attenzione. Aveva detto «Vedo laggiù una nuvolaglia che mi sembrano truppe». Poi aveva chiesto al duca di Dalmazia «Soul, che cosa vedete verso Chapelle Saint-Lambert?». Il maresciallo, puntando il cannocchiale, aveva risposto «Quattro o cinquemila uomini, sire». Evidentemente, Grouchy. Tuttavia, quella cosa rimaneva immobile nella bruma. Tutti i cannocchiali dello Stato Maggiore avevano scrutato la nuvola segnalata dall'imperatore. Qualcuno aveva detto «Sono colonne in sosta». La maggior parte aveva detto «Sono alberi». La verità è che la nuvola non si muoveva. L'imperatore aveva distaccato in ricognizione verso quel punto oscuro la divisione di cavalleria leggera di Domon. Bulow, in effetti, non si era mosso. La sua avanguardia era molto debole e non poteva nulla. Doveva attendere il grosso del corpo d'armata e aveva l'ordine di concentrarsi prima di entrare in linea. Ma alle cinque, vedendo il pericolo di Wellington, Blücher ordinò a Bulow di attaccare e disse questa frase notevole «Bisogna dare fiato all'armata inglese». Poco dopo, le divisioni Loston, Hiller, Hack e Rissell si schierarono davanti al corpo di Lobau. La cavalleria del principe Guglielmo di Prussia sboccava dal bosco di Paris. Plan Senua era in fiamme e le palle prussiane cominciavano a piovere fin nei ranghi della guardia di riserva dietro Napoleone. Capitolo XII La guardia Il resto è noto. L'irruzione di una terza armata, la battaglia sconvolta, 86 bocche da fuoco che tuonano all'improvviso. Pirch sopravvissuto con Bulow, la cavalleria di Zitten condotta da Blücher in persona, i francesi respinti, Marconier spazzato via dall'altipiano Dohan, Durut sloggiato da Papelot, Donzelot e Quio in ritirata, Lobau preso di sbieco. Una nuova battaglia che si precipitava al calar della notte, sui nostri reggimenti smantellati, tutta la linea inglese che riprendeva l'offensiva e si spingeva avanti, il gigantesco varco aperto nell'armata francese, la mitraglia inglese e la mitraglia prussiana che si aiutavano a vicenda, lo sterminio, il disastro di fronte, il disastro sul fianco, la guardia che entrava in linea sotto quello spaventevole crollo. Poiché essa sentiva che andava a morire, gridò «Viva l'imperatore!». La storia non ha nulla di più commovente di quella agonia che prorompeva in acclamazioni. Il cielo era stato coperto per tutto il giorno. D'un tratto, in quello stesso momento, erano le otto di sera, le nuvole all'orizzonte si scostarono e lasciarono passare attraverso gli olmi della strada di Nivelle, il gran rossore sinistro del sole che tramontava. L'avevano visto levarsi ad Austerlizza. Ogni battaglione della guardia, per questo finale, era comandato da un generale. Friand, Michel, Roguet, Harlet, Maglier, Poré de Mauvin, erano là. Quando gli alti berretti dei granatieri della guardia, con l'ampia placca recante l'aquila, apparvero simmetrici allineati, tranquilli, nella bruma di quella mischia, il nemico sentì rispetto per la Francia. Si credette di vedere venti vittorie entrare nel campo di battaglia ad ali spiegate, e coloro che erano vincitori, ritenendosi vinti, retrocedettero. Ma Wellington esclamò, in piedi, guardie, e mirate bene. Il reggimento rosso delle guardie inglesi, sdraiato dietro le siepi, si alzò. Un nugolo di mitraglia crivellò la bandiera tricolore che fremeva attorno alle nostre aquile. Tutti si lanciarono avanti, e il supremo massacro cominciò. La guardia imperiale sentì nell'ombra l'armata che cedeva attorno ad essa, e il vasto schianto della sconfitta. Intese il «si salvi chi può» che aveva sostituito il «viva l'imperatore», e con la fuga dietro di sé continuò ad avanzare, sempre più folgorata, morendo sempre più ad ogni passo che faceva. Non vi furono esitanti né timorosi. In quella truppa il soldato era eroe quanto il generale. Non un uomo mancò al suicidio. Nei, disperato, grande di tutta la grandezza della morte accettata, si offriva a tutti i colpi in quella tormenta. Ebbe il quinto cavallo ucciso sotto di sé, bagnato di sudore, gli occhi in fiamme, le labbra schiumanti, l'uniforme sbottonata, una delle spalline tagliata a metà dalla sciabolata di un horse guard, la placca di grand'aquila ammaccata da una pallottola, insanguinato, infangato, magnifico. Una spada spezzata in mano diceva «Venite a vedere come muore un maresciallo di Francia sul campo di battaglia». Ma in vano, egli non morì. Era sconvolto e indignato. Lanciava questa domanda a Dway d'Arlon «E tu non ti fai uccidere?» gridava in mezzo a tutta quell'artiglieria che straziava un pugno di uomini. «Non c'è dunque nulla per me? Oh, vorrei che tutti questi proiettili inglesi mi entrassero nel ventre!» È ridestinato a proiettili francesi, sventurato. Capitolo tredicesimo. La catastrofe. La rotta dietro la guardia fu lugubre. L'armata ripiegò bruscamente da tutti i lati nello stesso tempo, da Hugumont, dalla Hey Saint, da Papelotte, da Plancenua. Il grido «Tradimento» fu seguito dal grido «Si salvi chi può!» Un esercito che si sbanda è un disgelo. Tutto cede, si incrina, si spezza, fluttua, rotola, cade, si urta, corre, si precipita. Disgregazione inaudita. Ney afferra un cavallo. Di balza in groppa e senza cappello, senza cravatta, senza spada. Si mette di traverso alla strada di Bruxelles, fermando nel contempo gli inglesi e i francesi. Tenta di trattenere l'armata, la richiama, l'insulta. Si aggrappa alla disfatta. Viene aggirato. I soldati fuggono, gridando «Viva il maresciallo Ney!». Due reggimenti di Durut vanno e vengono, smarriti e come sballottati, tra le sciabole degli Ulani e la fucileria delle brigate di Kemp, di Best, di Peck e di Ryland. La peggiore delle mischie è la rotta. Gli amici si uccidono tra loro per fuggire. Gli squadroni e i battaglioni si frantumano e si disperdono gli uni contro gli altri. Enorme schiuma della battaglia. Lobau ha un'estremità come Reila un'altra, sono avvolti nel flutto. In vano Napoleone forma barriere con ciò che gli resta della guardia. In vano spende per un ultimo sforzo i suoi squadroni di servizio. Quiot retrocede davanti a Vivian, Kellerman davanti a Vandeleur, Lobau davanti a Bulov, Morand davanti a Perch, Domon e Subervic davanti al principe Guglielmo di Prussia. Guiot, che ha condotto alla carica gli squadroni dell'imperatore, cade sotto i piedi dei dragoni inglesi. Napoleone corre al galoppo lungo i fuggiaschi, li arringa, preme, minaccia, supplica. Tutte le bocche che al mattino gridavano «Viva l'imperatore!» rimangono ora spalancate appena lo riconoscono. La cavalleria prussiana, giunta fresca, si lancia, vola, sciabola, taglia, tronca, uccide, stermina. Le salmerie fuggono, i cannoni si mettono in salvo, i soldati del traino staccano i cassoni e ne prendono i cavalli per fuggire. Furgoni travolti, le quattro ruote in aria, sbarrano la strada e sono occasioni di massacro. Ci si schiaccia, ci si calpesta, si marcia sui morti e sui vivi. Le braccia sono stroncate, una moltitudine vertiginosa colma le strade, i sentieri, i ponti, le piane, le colline, le vallate, i boschi, ingombri di quell'evasione di quaranta mila uomini. Urla, disperazione, zaini e fucili gettati nei campi, varchi aperti a colpi di spada, non più camerati, non più ufficiali, non più generali. Un inesprimibile spavento. Zitten che sciabola la Francia a suo piacimento, i leoni divenuti caprioli, tale fu quella fuga. A Genap si tentò di tornare indietro, di far fronte, di contenere. Lobau radunò 300 uomini, si barricò l'entrata del villaggio, ma alla prima scarica della mitraglia prussiana tutto si rimise a fuggire e Lobau fu preso prigioniero. Si vede ancora oggi quella scarica di mitraglia impressa sul vecchio pignone di una stamberga in mattoni a destra della strada, qualche minuto prima di entrare a Genap. I prussiani si lanciarono in Genap furiosi, senza dubbio di essere così poco vincitori. L'inseguimento fu mostruoso. Blücher ordinò lo sterminio. Roguet aveva dato quel lugubre esempio di minacciare di morte ogni granatiere francese che gli avesse condotto un prigioniero prussiano. Blücher superò Roguet. Il generale della giovane guardia di Hesme, stretto contro la porta di un albergo di Genap, consegnò la spada ad un ussero della morte, che prese la spada e uccise il prigioniero. La vittoria si concluse con l'assassinio dei vinti. Puniamo, poiché noi siamo la storia. Il vecchio Blücher si disonorò. Quella ferocia portò al culmine del disastro. La rotta disperata attraversò Genap, attraversò i quattro bras, attraversò Sombref, attraversò Frasne, attraversò Tuan, attraversò Charles-le-Hoy, e non si arrestò che alla frontiera. Ahimè! E chi dunque fuggiva così? La grande armata. Quella vertigine, quel terrore, quella caduta in rovina del più alto valore che abbia mai strabiliato la storia. È forse priva di causa? No. L'ombra di una mano enorme si proietta su Waterloo. È la giornata del destino. La forza al di sopra dell'uomo ha decretato quella giornata. Perciò le teste si chinavano spaventate. Perciò tutti quei grandi animi consegnavano la loro spada. Coloro che avevano vinto l'Europa caddero stroncati, senza più nulla da dire né da fare, sentendo nell'ombra una presenza terribile. Hoc erat infatis. Quel giorno la prospettiva del genere umano cambiò. Waterloo è il cardine del XIX secolo. La scomparsa del Gran Duomo era necessaria all'avvento del Gran Secolo. Qualcuno a cui non si replica se ne incaricò. Il panico degli eroi si spiega. Nella battaglia di Waterloo c'è più che la nuvola, c'è la meteora. Dio è passato. Al calar della notte, in un campo presso Genap, Bernard e Bertrand afferrarono per una falda della finanziera e fermarono un uomo sconvolto, pensoso, sinistro, che tracinato fin là dalla corrente della disfatta, messo piede a terra, passata sotto braccio la briglia del cavallo, l'occhio smarrito, se ne tornava solo verso Waterloo. Era Napoleone, che tentava ancora di marciare in avanti, immenso sonnambulo di quel sogno crollato. Capitolo quattordicesimo L'ultimo quadrato Alcuni quadrati della guardia, immobili nel fluire della rotta come rocce nell'acqua che scorre, tennero fino a notte. Giungendo la notte e la morte con essa, attesero quell'ombra duplice, e incrollabili se ne lasciarono avviluppare. Ciascun reggimento, isolato dagli altri e privo di legami con l'armata affrantumata da ogni parte, moriva per suo conto. Avevano preso posizione per compiere quest'ultima azione, gli uni sulle alture di Rosson, gli altri nella piana di Mont-Saint-Jean. Là, abbandonati, vinti, terribili, quei quadrati cupi agonizzavano formidabili. Ulm, Wagram, Iena, Fridland morivano in loro. Al crepuscolo, verso le nove di sera, alla base dell'altopiano di Mont-Saint-Jean, ne restava uno. In quel vallone funesto, ai piedi di quel pendio scalato dai corazzieri, ora inondato dalle masse inglesi, sotto i tiri convergenti dell'artiglieria nemica e vittoriosa, sotto una spaventosa densità di proiettili, quel quadrato lottava. Era comandato da un oscuro ufficiale, chiamato Cambron. A ogni scarica, il quadrato si rimpiccioliva e replicava. Replicava alla mitraglia con la fucileria, restringendo continuamente le sue quattro mura. Da lontano i fuggiaschi, arrestandosi per un momento senza fiato, ascoltavano nelle tenebre quel cupo tuono decrescente. Quando quella legione non fu più che un pugno, quando la loro bandiera non fu più che un cencio, quando i loro fucili privi di pallottole non furono più che bastoni, quando il mucchio dei cadaveri fu più grande del gruppo sopravvissuto, si diffuse tra i vincitori una sorta di terrore sacro attorno a quei morenti sublimi, e l'artiglieria inglese, riprendendo fiato, fece silenzio. Fu una sorta di tregua. Quei combattenti avevano attorno a sé come un formicolio di spettri, ombre di uomini a cavallo. Il profilo nero dei cannoni, il cielo bianco scorto attraverso le ruote e gli affusti. Il colossale teschio che gli eroi intravedono sempre nel fumo in fondo alla battaglia, si avanzava verso di loro e li guardava. Poterono sentire nell'ombra crepuscolare che si caricavano i pezzi. Le micce accese, simili ad occhi di tigre nella notte, formarono un cerchio intorno alle loro teste. Tutti i serventi delle batterie inglesi si avvicinarono ai cannoni, e allora commosso, tenendo il minuto supremo sospeso sopra quegli uomini. Un generale inglese, Colville, secondo alcuni, Mettland, secondo altri, gridò, bravi francesi, arrendetevi! Cambron rispose, merda! Capitolo quindicesimo Cambron Poiché il lettore francese vuole essere rispettato, il più bel motto forse che un francese abbia mai detto non gli può essere ripetuto. È vietato introdurre il sublime nella storia. A nostro rischio e pericolo infrangiamo questo divieto. Dunque, tra quei giganti, ci fu un titano, Cambron. Dire quel motto è morire subito dopo, cosa c'è di più grande? Perché voler morire significa morire, e non è colpa di quell'uomo se mitragliato è sopravvissuto. L'uomo che ha vinto la battaglia di Waterloo non è Napoleone in rotta, non è Wellington in ritirata alle quattro, disperato alle cinque, non è Blücher che non si è battuto. L'uomo che ha vinto la battaglia di Waterloo è Cambron. Folgorare con un tal motto il fulmine che vi uccide è vincere. Pronunciare quella risposta alla catastrofe, dire questo al destino. Donare questo piedistallo al leone futuro, lanciare questa replica, alla pioggia della notte, al muro traditore di Hugumont, alla strada incassata di Hohen, al ritardo di Grouchy, all'arrivo di Blücher. Essere l'ironia nel sepolcro. Fare in modo di restare in piedi dopo che si sarà caduti. Annegare in due sillabe la coalizione europea. Offrire ai re quelle latrine già note ai Cesari. Trasformare l'ultima parola nella prima, mescolandovi il lampo della Francia. Chiudere insolentemente Waterloo col martedì grasso. Completare le onida con Rablè. Riassumere quella vittoria in una parola suprema, impossibile a pronunciarsi. Perdere il terreno e conservare la storia. Dopo quel massacro, gettare il ridicolo sull'avversario. È immenso. È l'insulto alla folgore. Assorge alla grandezza e schilea. La parola di Cambron fa l'effetto di una frattura. È la frattura di un petto operata dallo sdegno. È l'eccesso dell'agonia che esplode. Chi ha vinto? Forse Wellington? No. Senza Blücher sarebbe stato perduto. Forse Blücher? No. Se Wellington non avesse iniziato, Blücher non avrebbe potuto finire. Quel Cambron, quel passante dell'ultima ora, quel soldato ignorato, quell'infinitamente piccolo della guerra, sente di avere di fronte una menzogna in una catastrofe, sdoppiamento coccente. E nel momento in cui ne scoppia di rabbia, gli offrono quella derisione, la vita. Come non fremere? Eccoli là tutti i re d'Europa. I generali fortunati, i giove tonanti. Hanno centomila soldati vittoriosi e dietro i centomila un milione. I loro cannoni, le micce accese, sono puntati. Hanno sotto il tallone la guardia imperiale e la grande armata. hanno schiacciato Napoleone. E non rimane che Cambron. Per protestare non c'è più che quel verme della terra. Egli protesterà. Allora cerca una parola come si cerca una spada. Gli viene la schiuma alla bocca. E quella schiuma è la parola. Davanti a quella vittoria prodigiosa e mediocre. Davanti a quella vittoria senza vittoriosi. Quel disperato si raddrizza. Ne subisce l'enormità. Ma ne constata la nullità. E fa più che sputare su di essa. E sotto l'oppressione del numero, della forza e della materia. Trova all'anima un'espressione. L'escremento. Lo ripetiamo. Dire questo. Fare questo. Significa essere il vincitore. Lo spirito dei grandi giorni entrò in quell'uomo sconosciuto, in quell'attimo fatale. Cambron trova la parola di Waterloo come Rouget de Lille trova la Marsigliese, visitato dal soffio supremo. Un effluvio dell'uragano divino si distacca e viene a passare attraverso quegli uomini ed essi trasaliscono. E l'uno canta il canto supremo e l'altro lancia il grido terribile. Quella parola dello sdegno titanico. Cambron non la getta soltanto all'Europa in nome dell'impero. Sarebbe poco. La getta al passato in nome della rivoluzione. Lo si sente e si riconosce in Cambron l'antica anima dei giganti. Sembra che sia Danton che parla o Kleber che ruggisce. Alla parola di Cambron la voce inglese rispose «fuoco». Le batterie fiammeggiarono. La collina tremò. Da tutte quelle bocche di bronzo uscì un ultimo vomito di mitraglia, spaventoso. Una vasta fumata vagamente imbiancata dal levar della luna rotolò e quando il fumo si dissipò non c'era più nulla. Quel relitto formidabile era annientato. La guardia era morta. Le quattro muraglie della ridotta vivente giacevano a terra. Appena si distingueva qua e là un trasalimento fra i cadaveri. E fu così che le legioni francesi, più grandi delle legioni romane, spirarono a Mont-Saint-Jean, sul terreno bagnato di pioggia e di sangue, fra le messi buie, nel punto in cui passa oggi, alle quattro del mattino, fischiettando e frustando gaiamente il suo cavallo Joseph, che conduce la diligenza postale di Nivelle. Capitolo sedicesimo. Quot libras, induce. La battaglia di Waterloo è un enigma. Essa è oscura tanto per coloro che l'hanno vinta, quanto per colui che l'ha perduta. Per Napoleone è un attimo di panico. Blücher non vi vede che fuoco, Wellington non ci capisce niente. Consultate i rapporti. I bollettini sono confusi, i commenti ingarbugliati. Questi balbettano, quelli incespicano. Jominy divide la battaglia di Waterloo in quattro fasi. Muffling la seziona in tre peripezie. Solo Charat, benché su alcuni punti noi non concordiamo con lui, accolto col suo fiero colpo d'occhio i lineamenti caratteristici di quella catastrofe del genio umano alle prese con la fatalità divina. Tutti gli altri storici dimostrano un certo annebbiamento e in quell'annebbiamento vanno a tentoni. Giornata folgorante, in effetti, crollo della monarchia militare che, con grande stupore dei re, ha trascinato con sé tutti i regni, caduta della forza, sconfitta della guerra. In quell'evento, impresso di necessità sovrumana, la parte degli uomini è nulla. Togliere Waterloo a Wellington e a Blücher significa forse sottrarre qualcosa all'Inghilterra e alla Germania? No. Né l'illustre Inghilterra, né l'augusta Germania sono in questione nel problema di Waterloo. Grazie al cielo, i popoli sono grandi al di là delle lugubri avventure della spada. Né la Germania, né l'Inghilterra, né la Francia si limitano ad essere un fodero. In quell'epoca in cui Waterloo non è che un clangore di sciabole, al di sopra di Blücher la Germania ha Goethe e al di sopra di Wellington l'Inghilterra ha Byron. Un vasto sorgere di idee è proprio del nostro secolo e in questa aurora l'Inghilterra e la Germania hanno un bagliore magnifico. Sono maestose perché pensano. L'innalzamento del livello che esse apportano alla civiltà è loro intrinseco, viene da esse stesse e non da un accidente. Il loro ingrandirsi nel XIX secolo non deriva da Waterloo. Sono solo i popoli barbari che hanno crescite improvvise dopo una vittoria. È la vanità passeggera dei torrenti gonfiati da un temporale. I popoli civili, soprattutto nella nostra epoca, non si innalzano né si abbassano per la buona o cattiva sorte di un condottiero. Il loro peso specifico nel genere umano risulta da qualcosa di più di una battaglia. Il loro onore, grazie a Dio, la loro dignità, la loro luce, il loro genio, non sono numeri che gli eroi e i conquistatori, giocatori d'azzardo, possono mettere in pallio nella lotteria delle battaglie. Spesso battaglia perduta, progresso conquistato. Meno gloria, più libertà. Il tamburo tace, la ragione prende la parola. È il gioco a cui chi perde vince. Parliamo dunque di Waterloo freddamente da entrambe le parti. Rendiamo al caso ciò che è del caso e a Dio ciò che è di Dio. Che cos'è Waterloo? Una vittoria? No. Una cinquina. Cinquina vinta dall'Europa, pagata dalla Francia. Non valeva proprio la pena di erigervi un leone. Waterloo, del resto, è il più strano incontro della storia. Napoleone e Wellington. Non sono due nemici, sono due opposti. Già mai Dio, che si compiace delle antitesi, ha creato un contrasto più appassionante, un confronto più straordinario. Da un lato la precisione, la previsione, la geometria, la prudenza, la ritirata assicurata alle riserve preparate, un sangue freddo testardo, un metodo imperturbabile, la strategia che mette a profitto il terreno, la tattica che equilibra i battaglioni, il massacro calcolato al millimetro, la guerra regolata orologio alla mano. Nulla lasciato volontariamente al caso, il vecchio coraggio classico, l'irreprensibilità assoluta. Dall'altro, l'intuizione, la divinazione, la bizzarria militare, l'istinto sovrumano, il colpo d'occhio folgorante, un nonsoché che vede come l'aquila e colpisce come il fulmine, un'arte prodigiosa in una impetuosità sdegnosa, tutto il mistero di un'anima profonda, l'associazione col destino, il fiume, la piana, la foresta, la collina, intimate e in qualche modo costrette a obbedire, il despota spingendosi fino a comandare al campo di battaglia, la fede nella propria stella unita alla scienza strategica, ingrandendola ma turbandola. Wellington era il barème della guerra, Napoleone il Michelangelo, e stavolta il genio fu vinto dal calcolo. Da entrambe le parti si aspettava qualcuno. Fu il calcolatore esatto che vinse. Napoleone aspettava Gauchy, egli non venne. Wellington aspettava Blücher, che venne. Wellington è la guerra classica che si prende la rivincita. Bonaparte, alla sua aurora, l'aveva incontrata in Italia e superbamente battuta. La vecchia civetta era fuggita davanti al giovane avvoltoio. La vecchia tattica era stata non solo folgorata, ma scandalizzata. Chi era quel corso di ventisei anni? Cosa significava quell'ignorante splendido che, avendo tutto contro di sé, nulla per sé, senza viveri, senza munizioni, senza cannoni, senza stivali, quasi senza esercito, con un pugno d'uomini contro intere masse, si gettava sull'Europa coalizzata e guadagnava assurdamente vittorie nell'impossibile. D'onde usciva quel forsennato folgorante che, quasi senza riprendere fiato, e con la stessa combinazione di combattenti in mano, polverizzava una dopo l'altra le cinque armate dell'imperatore di Germania, rovesciando Bollier su Alvinzi, Wurmser su Bollier, Melà su Wurmser, Meck su Melà. Chi era quel nuovo venuto della guerra con la sfrontatezza di un astro. La scuola accademica militare lo scomunicava abbandonando il terreno. Perciò un implacabile rancore del vecchio cesarismo contro il nuovo, della sciabola corretta contro la spada fiammeggiante e della scacchiera contro il genio. Il 18 giugno 1815 quel rancore ebbe l'ultima parola, e sotto Lodi, Montebello, Montenotte, Mantova, Marengo, Arcole, scrisse Waterloo. Trionfo dei mediocri caro alle maggioranze. Il destino acconsentì a questa ironia. Al suo declino Napoleone ritrovò davanti a sé Wurmser giovane. Per ottenere Wurmser, in effetti, basta incanutire i capelli di Wellington. Waterloo è una battaglia di primo ordine vinta da un capitano di secondo. Ciò che dobbiamo ammirare nella battaglia di Waterloo è l'Inghilterra, è la fermezza inglese, è la risoluzione inglese, è il sangue inglese. Ciò che l'Inghilterra ha avuto di superbo in quella circostanza, non le dispiaccia, è se stessa, non il suo capitano, ma la sua armata. Wellington, bizzarramente ingrato, dichiara in una lettera a Lord Butterst che la sua armata, l'armata che ha combattuto il 18 giugno 1815, era una detestabile armata. Che ne pensa quel cupo mucchio d'ossa, sepolto sotto i solchi di Waterloo. L'Inghilterra è stata troppo modesta nei confronti di Wellington. Far Wellington così grande significa far piccola l'Inghilterra. Wellington non è che un eroe come tanti altri. Quegli scozzesi grigi, quelle horse guards, quei reggimenti di Maitland e di Mitchell, quella fanteria di Peck e di Kemp, quella cavalleria di Ponceby e di Somerset, quegli Highlanders che suonano il Peabroch sotto la mitraglia, quei battaglioni di Ryland, quelle reclute che sapevano appena maneggiare il moschetto e tennero testa alle vecchie bande di Hessling e di Rivoli. Ecco ciò che è grande. Wellington è stato tenace, questo fu il suo merito e noi non glielo contestiamo, ma l'ultimo dei suoi fantaccini e dei suoi cavalieri è stato solido quanto lui. L'Iron Soldier vale l'Iron Duke. Quanto a noi, tutta la nostra glorificazione va al soldato inglese, all'esercito inglese, al popolo inglese. Se un trofeo deve esserci è all'Inghilterra che deve essere eretto. La colonna di Waterloo sarebbe più corretta se in luogo della figura di un uomo innalzasse al cielo la statua di un popolo. Ma questa grande Inghilterra si irriterà di ciò che stiamo dicendo. Essa mantiene ancora, dopo il suo 1688 e il nostro 1789, l'illusione feudale. Essa crede all'eredità e alla gerarchia. Questo popolo, che nessun altro supera impotenza e gloria, si stima come nazione, non come popolo. In quanto popolo si subordina volentieri e prende un lord come capo. Workman si lascia spregiare, soldato si lascia bastonare. Si ricorderà che nella battaglia di Inkerman, un sergente che a quanto pare aveva salvato l'armata, non poté essere citato da Lord Raglan, la gerarchia militare inglese non permettendo di menzionare in un rapporto alcun eroe al di sotto del grado di ufficiale. Ciò che noi ammiriamo, soprattutto in uno scontro del genere di Waterloo, è la prodigiosa abilità del caso. Pioggia notturna, muro di Hugumont, strada incassata di Hohen, Grouchy sordo al cannone, la guida di Napoleone che lo inganna, la guida di Bülow che lo illumina. Tutto quel cataclisma è meravigliosamente condotto. In sostanza, diciamolo, ci fu a Waterloo più massacro che battaglia. Waterloo è fra tutte le battaglie campali, quella che ha il fronte più piccolo rispetto al numero dei combattenti. Napoleone tre quarti di lega, Wellington una mezza lega, 72.000 uomini per parte. Da quello spessore derivò il carnaio. Sono stati fatti dei calcoli e stabilite queste proporzioni. Perdite umane. Ad Osterlitz, francesi 14%, russi 30%, austriaci 44%. A Wagram, francesi 13%, austriaci 14%. Alla Moscova, francesi 37%, russi 44%. A Boitsen, francesi 13%, russi e prussiani 14%. A Waterloo, francesi 56%. Alleati 31%. Totale per Waterloo 41%. 144.000 combattenti, 60.000 morti. Il campo di Waterloo oggi ha la calma che appartiene alla terra, supporto impassibile dell'uomo, e somiglia a tutte le pianure. Tuttavia, alla notte, una sorta di bruma visionaria si sprigiona. E se qualche viaggiatore vi si aggira, se guarda, se ascolta, se sogna come Virgilio nelle funeste piane di Filippi, l'allucinazione della catastrofe si impadronisce di lui. Lo spaventoso 18 giugno rivive. La falsa collina Monumento si cancella, quel leone banale svanisce. Il campo di battaglia riprende la sua realtà. Schieramenti di fanteria ondeggiano nella piana, galoppi furiosi attraversano l'orizzonte. Il sognatore, smarrito, vede il balenio delle sciabole, lo scintillio delle baionette, il fiammeggiar delle bombe, l'incrociarsi mostruoso dei fulmini. Sente, come un rantolo in fondo a una tomba, il clamore vago della battaglia fantasma. Quelle ombre sono i granatieri, quei bagliori sono i corazzieri, quello scheletro è Napoleone, quello scheletro è Wellington. Tutto ciò non è più, e si urta e combatte ancora, e i burroni si imporporano, e gli alberi rabbrividiscono, e ve furia fin nelle nuvole, e nelle tenebre tutte quelle alture orrende, Mont-Saint-Jean, Hougoumont, Frichmont, Papelot, Plansinois, appaiono confusamente coronate di turbini di spettri che si sterminano. Capitolo diciassettesimo Dobbiamo considerare Waterloo un bene? Esiste una scuola liberale rispettabilissima che non odia Waterloo. Noi non siamo di quelli. Per noi Waterloo non è che la data stupefatta della libertà. Che una tala aquila esca da un tal uovo è certamente inaspettato. Waterloo, se ci si pone dal punto di vista culminante della questione, è intenzionalmente una vittoria contro-rivoluzionaria. È l'Europa contro la Francia. È Pietroburgo, Berlino e Vienna contro Parigi. È lo statu quo contro l'iniziativa. È il 14 luglio 1789 aggredito attraverso il 20 marzo 1815. È lo scompiglio delle monarchie contro l'indomabile moto francese. Spegnere finalmente quel vasto popolo in eruzione da 26 anni, tale era il sogno. Solidarietà dei Brunswick, dei Nassau, dei Romanov, degli Hohenzollern, degli Asburgo con i Borboni. Waterloo porta in groppa il diritto divino. È vero che l'impero, essendo stato dispotico, la regalità per la reazione naturale delle cose doveva forzatamente essere liberale e che un ordine costituzionale contro voglia è uscito da Waterloo con gran rincrescimento dei vincitori. È che la rivoluzione non può essere veramente vinta ed essendo provvidenziale e assolutamente fatale, riappare sempre, prima di Waterloo in Bonaparte che abbatte i vecchi troni, dopo Waterloo in Luigi XVIII che concede e subisce la carta. Bonaparte mette un postiglione sul trono di Napoli e un sergente sul trono di Svezia, servendosi dell'ineguaglianza per dimostrare l'eguaglianza. Luigi XVIII, a Saint-Hohan, firma la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Se volete rendervi conto di cosa sia la rivoluzione, chiamatela progresso e se volete rendervi conto di cosa sia il progresso, chiamatelo domani. Domani compie irresistibilmente la propria opera e la compie sin da oggi, raggiunge sempre il proprio scopo, bizzarramente. Si serve di Wellington per fare di Fouat, che non era che un soldato, un oratore. Fouat cade a Ugumont e si risolleva alla tribuna. Così procede il progresso. Per quell'operaio non ci sono cattivi attrezzi. Egli adatta al suo lavoro divino, senza sconcertarsi, l'uomo che ha avarcato le Alpi e il buon vecchio malato vacillante del padre Eliseo. Si serve del gottoso come del conquistatore, del conquistatore all'estero, del gottoso all'interno. Waterloo, interrompendo la demolizione dei troni europei con la spada, non ha avuto altro effetto che di far continuare il travaglio rivoluzionario su un altro versante. Gli sciabolatori hanno finito, è il turno dei pensatori. Il secolo che Waterloo voleva arrestare ha marciato sopra di esso e ha proseguito la sua strada. Quella vittoria sinistra è stata vinta dalla libertà. In sostanza e incontestabilmente, ciò che trionfava Waterloo, ciò che sorrideva dietro Wellington, ciò che gli procurava tutti i bastoni da maresciallo dell'Europa, compreso, si dice, il bastone da maresciallo di Francia, ciò che spingeva allegramente le cariole di terra piene d'ossa per innalzare il poggio del leone, ciò che ha trionfalmente scritto su quel piedistallo questa data, 18 giugno 1815, ciò che incoraggiava Blücher che sciabolava la rotta, ciò che dal sommo dell'altopiano di Mont-Saint-Jean si chinava sulla Francia come su una preda, era la controrivoluzione, era la controrivoluzione che mormorava questa parola infame, spartizione. Giunta a Parigi, essa vide quel cratere da vicino, sentì che quella cenere le bruciava i piedi e si ravvide, si ridusse al balbettio di una carta. Non vediamo in Waterloo che ciò che c'è in Waterloo. Libertà costituzionale, non ce n'è affatto. La controrivoluzione era involontariamente liberale, così come per un fenomeno corrispondente, Napoleone era involontariamente rivoluzionario. Il 18 giugno 1815, Robespierre, a cavallo, fu disarcionato. Capitolo XVIII Recrudescenza del diritto divino Fine della dittatura. Tutto il sistema europeo crollò. L'impero si abbatté in un'ombra simile a quella del mondo romano ospirante. Si rividero abissi come ai tempi dei barbari. Soltanto la barbarie del 1815, che bisogna chiamare col suo nomignolo contro rivoluzione, aveva poco fiato, lo perse presto e si fermò di botto. L'impero, confessiamolo, fu pianto e pianto da occhi eroici. Se la gloria è nella spada fattasi scettro, l'impero era stato la gloria stessa. Aveva diffuso sulla terra tutta la luce che la tirannia può dare, luce cupa. Diciamo di più, luce oscura. Paragonata al vero giorno è una notte. Quella scomparsa della notte fece l'effetto di una eclissi. Luigi XVIII rientrò in Parigi. I girotondi dell'8 luglio cancellarono gli entusiasmi del 20 marzo. Il corso divenne l'antitesi del Bernese. La bandiera sulla cupola delle tuierie fu bianca. L'esilio troneggiò. Il tavolo diabete di Hartwell prese posto davanti alla poltrona tappezzata di fiordalisi di Luigi XIV. Si parlò di Bouvain e di Fontenoy come di ieri. Austerlitz era invecchiata. L'altare e il trono fraternizzarono maestosamente. Una delle forme più incontestate di salvezza della società nel XIX secolo si stabilì sulla Francia e sul continente. L'Europa prese la coccarda bianca. Tristeion fu celebre. Il motto «Non pluribus impar» riapparve tra raggi di pietra raffiguranti un sole sulla facciata della caserma del Che d'Orsay. Dove c'era stata una guardia imperiale ci fu una casa rossa. L'arco del carousel, tutto carico di vittorie malportate, spaesato tra quelle novità, un po' vergognoso forse di Marengo e d'Arcole, si trasse d'impaccio con la statua del duca d'Angoulom. Il cimitero della Madeleine, temibile fossa comune del 93, si coprì di marmo e di diaspro le ossa di Luigi XVI e di Maria Antonietta essendo in quella polvere. Nel fossato di Vincennes un cippo sepolcrale sorse dalla terra, ricordando che il duca d'Angoulom era morto nel mese stesso in cui Napoleone era stato incoronato. Papa Pio VII, che aveva compiuto quella consacrazione vicinissima a quella morte, benedì tranquillamente la caduta, come aveva benedetto l'elevazione. Ci fu a Chambron una piccola ombra di quattro anni che era sedizioso chiamare re di Roma. E queste cose si sono compiute e quei re hanno ripreso i loro troni e il padrone d'Europa è stato messo in una gabbia e l'antico regime è divenuto il nuovo e tutta l'ombra e tutta la luce della terra si sono scambiate il posto perché nel pomeriggio di un giorno d'estate un pastore ha detto a un prussiano in un bosco passate di qui e non di lì. Quel 1815 fu una sorta di lugubre aprile. Le vecchie realtà malsane e velenose si coprirono di nuove apparenze. La menzogna sposò il 1789. Il diritto divino si mascherò con una carta, le finzioni, si fecero costituzionali, i pregiudizi, le superstizioni e i pensieri riposti con l'articolo 14 in cuore si verniciarono di liberalismo. Il serpente aveva cambiato la pelle. L'uomo era stato insieme ingrandito e sminuito da Napoleone. L'ideale sotto quel regno della materia splendida aveva ricevuto lo strano nome di ideologia. Grave imprudenza di un gran duomo deridere l'avvenire. I popoli tuttavia, quella carne da cannone così innamorata del cannoniere, lo cercavano con gli occhi. Dov'è? Che fa? Napoleone è morto, diceva un passante a un invalido di Marengo e di Waterloo. «Morto lui!» esclamò quel soldato. «Si vede che non lo conoscete». Le immaginazioni sfidavano quell'uomo abbattuto. Il fondo dell'Europa dopo Waterloo fu tenebroso. Qualcosa di enorme rimase a lungo vuoto per la scomparsa di Napoleone. I re si inserirono in quel vuoto. La vecchia Europa ne approfittò per riformarsi. Ci fu una santa alleanza. Belle Allianz aveva predetto il campo fatale di Waterloo. In presenza e in faccia a quell'antica Europa rifatta, i lineamenti di una nuova Francia si abbozzarono. L'avvenire, schernito dall'imperatore, fece il suo ingresso. Recava in fronte quella stella, libertà. Gli occhi ardenti delle giovani generazioni si volsero verso di lei. Cosa singolare ci si innamorò nel contempo di quell'avvenire, libertà, e di quel passato, Napoleone. La disfatta aveva reso più grande il vinto. Bonaparte caduto sembrava più alto di Napoleone in piedi. Coloro che avevano trionfato ebbero paura. L'Inghilterra lo fece custodire da Hudson Love e la Francia lo fece spiare da Montgeny. Le sue braccia conserte divennero l'inquietudine dei troni. Alessandro lo definiva la mia insonnia. Quel timore veniva dalla quantità di rivoluzione che c'era in lui. È ciò che spiega e scusa il liberalismo bonapartista. Quel fantasma dava i brividi al vecchio mondo. Il re regnarono a disagio con la rupe di Sant'Elena all'orizzonte. Mentre Napoleone agonizzava a Longwood, i 60.000 uomini caduti sul campo di Waterloo si decomposero tranquillamente e qualcosa della loro pace si diffuse per il mondo. Il congresso di Vienna ne fece i trattati del 1815 e l'Europa chiamò tutto questo la restaurazione. Ecco che cos'è Waterloo. Ma che importa all'infinito? Tutta quella tempesta, tutti quei nembi, quella guerra. Poi quella pace, tutta quell'ombra. Non turbò neppure per un istante lo splendore dell'occhio immenso, davanti al quale un afide che salta da uno stelo all'altro e guaglia l'aquila che vola di campanile in campanile fin sulle torri di Notre-Dame. Capitolo 19. Il campo di battaglia la notte Torniamo, è una necessità di questo libro, su quel fatale campo di battaglia. Il 18 giugno 1815 era luna piena. Quel chiarore favorì il feroce inseguimento di Blücher, denunciò le tracce dei fuggiaschi, consegnò quella massa disastrosa alla cavalleria prussiana a Canita e collaborò al massacro. Vi sono talvolta nelle catastrofi queste tragiche compiacenze della notte. Dopo l'ultimo colpo di cannone la piana di Mont-Saint-Jean rimase deserta. Gli inglesi occuparono il campo dei francesi. È la constatazione abituale delle vittorie, dormire nel letto del vinto. Stabilirono il loro bivacco al di là di Rossum. I prussiani lanciati sulla rotta si spinsero avanti. Wellington andò al villaggio di Waterloo per redigere il suo rapporto al Lord Butterst. Semmai il sic vos non vobis è stato applicabile. Lo è a colpo sicuro a quel villaggio di Waterloo. Waterloo non ha fatto nulla. È rimasto a mezza lega dall'azione. Mont-Saint-Jean è stato cannoneggiato. Hugumon è stato bruciato. Papelotta è stato bruciato. Plansenois è stato bruciato. La Haysaint è stata presa d'assalto. La bella Lyons ha visto l'abbraccio dei due vincitori. Questi nomi si conoscono appena. E Waterloo, che nella battaglia non ha avuto parte, ne ha preso tutto l'onore. Non siamo di coloro che lusingano la guerra. Quando se ne presenta l'occasione le diciamo le sue verità. La guerra ha spaventose bellezze che non abbiamo nascoste. Ha anche, conveniamone, qualche bruttura. Una delle più sorprendenti è la rapida spogliazione dei morti dopo la vittoria. L'alba che segue una battaglia si leva sempre su cadaveri nudi. Chi fa questo? Chi insozza così il trionfo? Di chi è questa odiosa mano furtiva che si insinua nella tasca della vittoria? Chi sono questi furfanti che fanno i loro colpi dietro la gloria? Alcuni filosofi, tra cui Voltaire, affermano che sono proprio coloro che hanno fatto la gloria. Sono gli stessi, dicono. Non c'è sostituzione. Coloro che sono in piedi derubano coloro che sono a terra. L'eroe del giorno è il vampiro della notte. Si ha bene il diritto, dopo tutto, di depredare un poco un cadavere di cui si è l'autore. Quanto a noi non lo crediamo. Cogliere all'ori e rubare le scarpe di un morto ci sembra impossibile che sia opera della stessa mano. Ciò che è certo è che di solito dopo i vincitori vengono i ladri. Ma mettiamo il soldato, soprattutto il soldato contemporaneo, fuori causa. Ogni esercito ha una coda, ed è lì che bisogna accusare. Degli esseri pipistrelli, per metà briganti e per metà valletti. Tutte le specie di vespertiglio generate da quel crepuscolo, che si chiama guerra. Gente che indossa l'uniforme e non combatte. Falsi malati, storpi temibili, loschi cantinieri che trottano talvolta con le loro donne su carretti. E rubano ciò che rivendono, mendicanti che si offrono come guide agli ufficiali, mascalzoni, ladruncoli. Le armate in marcia un tempo, non stiamo parlando di oggi, si trascinavano dietro tutto questo, tanto che nel gergo militare costoro si chiamavano trascinati. Nessuna armata, nessuna nazione era responsabile di quegli esseri. Parlavano italiano e seguivano i tedeschi, parlavano francese e seguivano gli inglesi. Fu da uno di questi miserabili, trascinato spagnolo che parlava francese, che il marchese di Fervac, ingannato dal suo accento piccardo e avendolo preso per uno dei nostri, venne ucciso a tradimento e derubato sul campo di battaglia, la notte che seguì la vittoria di Serisol. Dalla razzia nasceva il razziatore, la detestabile massima, vivere a spese del nemico, produceva quella lebra che solo una rigida disciplina poteva guarire. Vi sono celebrità ingannevoli, non è sempre chiaro perché alcuni generali, peraltro grandi, siano stati tanto popolari. Turin era adorato dai suoi soldati perché tollerava il saccheggio. Il male permesso fa parte della bontà. Turin era così buono che lasciò mettere a ferro e fuoco il palatinato. Si vedevano al seguito degli eserciti più o meno razziatori a seconda che il capo fosse più o meno severo. Och e Marceau non avevano trascinati. Wellington, gli rendiamo volentieri questa giustizia, ne aveva pochi. Dunque, nella notte dal 18 al 19 giugno, si spogliarono i morti. Wellington fu rigoroso, ordine di passare per le armi chiunque fosse colto in flagrante delitto. Ma la rapina è tenace. I tre li fucilavano nell'altro. La luna era sinistra su quella piana. Verso mezzanotte, un uomo vagava, o piuttosto strisciava, dalle parti della strada incassata di Johan. Era, secondo ogni apparenza, uno di quelli che abbiamo descritto, né inglese, né francese, né contadino né soldato. Ghoul, più che uomo, attirato dall'odore dei morti, che aveva per vittoria il furto e veniva a svaliggiare Waterloo. Indossava una blusa che era una specie di cappotto, era inquieto e audace, procedeva guardandosi alle spalle. Chi era quell'uomo? La notte, probabilmente ne sapeva sul suo conto più del giorno. Non aveva zaino, ma evidentemente grandi tasche sotto il cappotto. Di tanto in tanto si fermava, esaminava la piana attorno a sé come per accertarsi di non essere osservato. Si chinava bruscamente, frugava a terra qualcosa di silenzioso ed immobile, poi si raddrizzava e si allontanava furtivo. Il suo serpeggiare, il suo atteggiamento, il suo gesto rapido e misterioso lo rendevano simile a quelle larve crepuscolari che infestano le rovine e che le antiche leggende normanne chiamano Alléon. Certi trampolieri notturni si stagliano con profili analoghi nelle paludi. Uno sguardo che sondasse attentamente tutta quella bruma avrebbe potuto notare a qualche distanza, fermo e come nascosto dietro la catapecchia che costeggia sulla via di Nivelle, l'angolo della strada da Mont-Saint-Jean a Brun-la-Leu, una sorta di furgone da vivandiere coperto da una capotta di vimini catramati, trainato da un ronzino affamato che brucava l'ortica attraverso il morso, e nel furgone una specie di donna seduta su bauli e pacchi. Forse c'era un legame tra quel furgone e quel razziatore. L'oscurità era serena, non una nuvola allo zenith. Che importa che la terra sia rossa, la luna rimane bianca. Sono le indifferenze del cielo, nei prati rami d'alberi spezzati dalla mitraglia ma non caduti e trattenuti dalla scorza, ondeggiavano dolcemente al vento della notte. Un alito, quasi un respiro, muoveva i rovi. Nell'erba c'erano brividi simili a dipartite d'anime. Si sentivano vagamente, in lontananza, gli andirivieni delle pattuglie e delle ronde dell'accampamento inglese. Hugumont e la Heysant continuavano a bruciare, formando una a ovest, l'altra a dest, due grosse fiammate cui veniva ad annodarsi, come una collana di rubini sparsi, aventi all'estremità due carbonchi, il cordone dei fuochi di bivacco inglesi, scaglionati a immenso semicerchio, sulle colline dell'orizzonte. Abbiamo descritto la catastrofe della strada di Ohen. Cos'era stata quella morte per tanti valorosi? Il cuore si smarrisce a pensarci. Se c'è una cosa spaventosa, se esiste una realtà che supera il sogno è questa, vivere. Vedere il sole essere nel pieno possesso della propria energia virile, avere la salute e la gioia, ridere gagliardamente, correre verso una gloria che si ha d'innanzi, abbagliante, sentirsi in petto un polmone che respira, un cuore che batte, una volontà che ragiona, parlare, pensare, sperare, amare, avere una madre, una moglie, avere dei figli, avere la luce e d'un tratto, il tempo di un grido, in meno di un minuto sprofondare in un abisso, cadere, rotolare, schiacciare, essere schiacciato, vedere spighe di grano, fiori, foglie, rami, non potersi aggrappare a nulla, sentire la propria sciabola inutile, degli uomini sopra di sé, dei cavalli sopra di sé, di battersi in vano, le ossa spezzate da qualche scalciata nelle tenebre, sentire un tallone che vi fa saltar via gli occhi, mordere con rabbia dei ferri di cavallo, soffocare, urlare, contorcersi, essere là sotto e dirsi un istante fa ero vivo. Là dove aveva rantolato quello spaventevole e disastro, ora tutto era silenzio. La trincea della strada era colma di cavalli e di cavalieri inestricabilmente ammucchiati, incastro terribile. Non c'era più fossato, i cadaveri avevano portato la strada al livello della piana e l'avevano riempita rasa, come un moggio d'orzo ben misurato, un mucchio di morti nella parte superiore, un fiume di sangue nella parte inferiore, tale era quella strada la sera del 18 giugno 1815. Il sangue colava fin sulla via di Nivelle e vi ristagnava in un ampio pantano davanti alla battuta d'alberi che sbarrava la carreggiata in un punto che si mostra ancora. Fu nel punto opposto, ricordate, verso la strada di Genap, che si era verificato lo sprofondamento dei corazzieri. Lo spessore dei cadaveri era proporzionato alla profondità della strada incassata. Verso il centro, nel punto in cui diveniva piana, là dove era passata la divisione de l'Ov, lo strato di morti si assottigliava. Il razziatore notturno che abbiamo fatto intravedere al lettore andava da quella parte, fiutava quell'immensa tomba, guardava, passava non si sa quale orrenda rivista dei morti, marciava coi piedi nel sangue. Di colpo s'arrestò. A qualche passo davanti a lui, nella strada incassata, nel punto in cui finiva il cumulo dei morti, da sotto quell'ammasso d'uomini e di cavalli usciva una mano aperta, illuminata dalla luna. Quella mano aveva al dito qualcosa che brillava e che era un anello d'oro. L'uomo si chinò. Rimase per un istante accoccolato e quando si rialzò non c'era più anello su quella mano. Non si rialzò completamente. Rimase in un atteggiamento selvatico e timoroso, volgendo le spalle al mucchio dei morti, scrutando l'orizzonte in ginocchio, tutta la parte anteriore del corpo appoggiata sui due indici posati a terra, la testa che spiava sopra il bordo della strada. Le quattro zampe dello sciacallo convengono a certe azioni. Poi, presa una decisione, si alzò. In quel momento ebbe un soprassalto, sentì che da dietro lo trattenevano. Si voltò. Era la mano aperta che si era chiusa e aveva afferrato la falda del suo cappotto. Un onestuomo avrebbe avuto paura. Quello si mise a ridere. «Toh!» disse. «È solo il morto. Preferisco un fantasma a un gendarme». La mano cadde e lasciò la presa. Lo sforzo si esaurisce presto nella tomba. «Ah!» riprese il razziatore. «È dunque vivo questo morto. Vediamo!» Si chinò di nuovo, frugò nel mucchio, scartò ciò che faceva ostacolo, prese la mano, impugnò il braccio, liberò la testa, tirò il corpo e qualche istante dopo trascinava nell'ombra della strada incassata a un uomo inanimato, almeno svenuto. Era un corazziere, un ufficiale, e anche un ufficiale di un certo rango. Una grossa spallina d'oro spuntava dalla corazza. Quell'ufficiale non aveva più elmo. La furiosa sciabolata gli sfregiava il volto, dove non si vedeva che sangue. Del resto, non sembrava che avesse le membra spezzate, e per qualche caso fortunato, se è possibile usare qui questa parola, i morti si erano arcuati sopra di lui, in modo da salvarlo dallo schiacciamento. I suoi occhi erano chiusi. Aveva sulla corazza la croce d'argento della legion d'onore. Il razziatore afferrò quella croce che disparve in una delle voragini che aveva sotto il cappotto. Dopodiché tastò il taschino dell'ufficiale, vi sentì un orologio e lo prese. Poi frugò il panciotto, vi trovò un borsellino e l'intascò. Mentre era in quella fase del soccorso che stava portando al morente, l'ufficiale aprì gli occhi. «Grazie», disse debolmente. I bruschi movimenti dell'uomo che lo manipolava, la frescura della notte, l'aria liberamente respirata, lo avevano tratto dal suo letargo. Il razziatore non rispose. Levò la testa. Si sentiva un rumor di passi nella piana, probabilmente qualche pattuglia che si avvicinava. L'ufficiale mormorò, perché c'era ancora dell'agonia nella sua voce. «Chi ha vinto la battaglia?» «Gli inglesi», rispose il razziatore. L'ufficiale riprese. «Cercate nelle mie tasche. Vi troverete un borsellino e un orologio. Prendeteli». Era già fatto. Il razziatore eseguì quanto gli era stato chiesto e disse «Non c'è niente». «Mi hanno derubato», riprese l'ufficiale. «Mi dispiace, sarebbero stati per voi». I passi della pattuglia si facevano sempre più distinti. «Ecco che vengono», disse il razziatore, facendo il movimento di un uomo che se ne va. L'ufficiale, sollevando penosamente il braccio, lo trattenne. «Mi avete salvato la vita. Chi siete?» Il razziatore rispose in fretta e a bassa voce. «Ero come voi dell'armata francese. Bisogna che vi lasci. Se mi prendono mi fucilano. Vi ho salvata la vita. Ora dovete cavarvela da solo». «Qual è il vostro grado?» «Sergente». «Come vi chiamate?» «Tenardier». «Non dimenticherò questo nome», disse l'ufficiale. «E voi ricordate il mio. mi chiamo Pommersi».